Caro Mr. Rip, iniziamo come al solito, cioè presentati, anzi prima ti presento io nel senso che ti ho scoperto recentemente, come dicevo prima, ed è stato per me un grande piacere scoprire un informatico che ha avuto voglia, soprattutto con il tuo percorso, che ha avuto voglia di mettersi su internet a fare dei contenuti interessanti e formativi, secondo me anche per chi non è esperto della tua materia, però la tua è una biografia, da quello che sono riuscito a vedere, da quello che sono riuscito a recuperare, molto molto interessante, non solo perché hai lavorato in Milestone, hai lavorato in Google, hai lavorato anche per YouTube, Google, YouTube, ma anche perché... Tengo anche la maglietta di YouTube adesso. Attenzione, attenzione, ma anche perché vedevo che hai anche avuto dei trascorsi teatrali, quindi una personalità interessante, ma quindi ti voglio chiedere questo, se tu dovessi presentarti a qualcuno che non ti conosce e dovessi riassumere un pochino il tuo percorso così, a un nuovo pubblico su internet, che cosa diresti? Allora, se mi dovessi presentare a qualcuno che non conosco, in genere ti racconto una delle mie dieci personalità a caso, e poi se è interessato scopre anche le altre, ma una alla volta, un po' come nel poker, partendo dalla citazione di Max Gazze, scusa, però se dovessi fare un riassunto un po' più generale, che dire? Sono, non so, queste domande così difficili, mi sento, ok, vabbè, partiamo da, non lo so, sono un ingegnere informatico, 44 anni, quasi 45, sempre appassionato di informatica, ma scienze in generale, matematica, fisica, chimica, in realtà volevo fare il matematico da ragazzino, poi dopo ho fatto l'informatico, ma in realtà poi crescendo ho sviluppato una passione per le soft skills, per aspetti anche di psicologia, di filosofia, fatti tutto molto da praticone, e per aspetti sociali, anche interazione, il teatro mi ha aperto un mondo, quindi in realtà mi rendo conto che anche l'informatica, se mi vado a interrogar bene, è solo perché ho avuto un incontro fortuito con questo campo da ragazzino, e quindi poi essendo uno che si appassiona di qualsiasi cosa, quindi se tu mi fai vedere, non lo so, un po' di gare, di corse tra lombrichi, mi appassionano così tanto che magari dico, ca figata, comincio a ricercare, ho un approccio da ricercatore, un approccio da voler andare in deep dive, da voler fare degli approfondimenti, per cui difficilmente mi accontento di due cose e poi passo via, se un campo mi piace vado a fondo, a fondo, a fondo, e poi magari probabilmente con l'approccio un po' approfondito che ho alle cose, tende a riuscirmi un po' bene, e questo fa un feedback loop che mi fa poi lavorare in quel campo. È interessante questa cosa perché è un pochino il contrario di quello che è stato il mio percorso, partendo da materie umanistiche, forse anche per via del loro potere seduttivo in età giovanile, ho sempre avuto una fascinazione e una tendenza verso le materie scientifiche. In questo senso mi interessa molto il modo di ragionare che tu hai dimostrato sul tuo canale, oltre ad essere uno che ha sempre il foglio Excel, diciamo così, pronto, sotto mano, questa cosa la trovo molto carina, ma in generale è bello vedere una persona con una formazione informatica spaziare in questo modo. E tu dicevi che l'incontro con l'informatica è stato un incontro fortuito, è una passione che ti è nata, un discorso di convenienza, di opportunità, com'è stata questa cosa? Probabilmente sarò saputo un Commodore 64, cioè un computer di quando ero ragazzino, non so se tu lo conosci, non l'hai mai sentito nominare, non so se appartiene al tuo passato. No, io l'ho iniziato con l'Amiga e con i Super Nintendo. Era la stessa epoca, l'Amiga era a quell'epoca. Quindi, ok, mio padre un giorno porta un Commodore 64, avevo forse 7-8 anni, con le cassette e cominciò a giocare. Ok, passione subito per programmazione e videogiochi, anche videogiochi da bambino subito, subito. Infatti subito ho voluto iniziare a programmare i videogiochi, quando ero bambino. E quindi associato a questo Commodore 64 c'era il manuale d'uso, che oggi se pensiamo ai manuali d'uso delle cose che sono tre foglietti con sito di attenzione, non metterti in bocca la presa e non dare fuoco a questo oggetto. Il manuale d'uso del Commodore era la spiegazione del basic, non so, così si scrive codice. Quindi leggendolo e provando due cose ho iniziato a fare videogiochi quando avevo dieci anni, videogiochi testuali. A me piaceva tantissimo fare videogiochi di cose manageriali. Io giocavo già ai vecchi The Manager o Championship Manager. Io ho fatto un gioco di calcio manageriale, però avevo dieci anni, per cui non sapevo le basi di programmazione. Poi il basic, c'erano dei costrutti che oggi sono agghiaccianti. E quindi questo l'avvicinarmi con l'informatica, con la programmazione, con i videogiochi. Ma è interessantissima questa cosa perché di solito uno pensa, si compra un computer per fare i videogiochi, invece è stato un acquisto formativo, educativo per te, paradossalmente. Ti ha insegnato un sacco di... A me il Super Nintendo ha insegnato a giocare a Super Mario, non altro, capito? Invece lo trovo incredibile. Ha segnato il tuo percorso anche da un punto di vista della formazione e poi della professione. Beh, in questo qua io... Ok, bella... Ci faccio un... Provo a farci un ragionamento così al volo, ma da elaborare. Io un po' di critica al concetto di entertainment puro ce l'ho sempre fatta. A me piace molto qualcosa che mischi education e entertainment. Non so, vengo dall'epoca di... Com'è che si chiamava? Quello del corpo umano, quel cartoon animato... Esploriamo il corpo umano. Sì, in cui magari imparavi anche qualcosa, no? E quindi all'epoca molti strumenti ti davano... Non c'era internet, per cui... Molti strumenti ti davano qualche... Ti metterò qualche porticina che puoi andare ad aprire se volevi. E io le ho aperte. Quindi, sì, non sono mai stato amante dei giochi delle console, ad esempio. Non ho mai avuto console di nessun tipo. PlayStation, se qui. Però il Commodore, non so, era una console, era un computer. Chi se ne frega come classificarlo. Però era qualcosa che era programmabile. E a me ha stimolato, assolutamente sì. Quindi, sì, penso che sarebbe un po' più difficile oggi. Oggi deve essere molto più intenzionale. Nel senso che oggi devi tu decidere. Ok, ho questo strumento davanti. Voglio investire mie energie, invece che farmi trascinare dall'entertainment puro per formarmi da qualche parte e provare qualcosa. Mi stupisce che c'è pochissima gente che lo fa. O per agganciarci a un discorso che mai toccheremo, senti parlare un milione di persone di cryptocurrency, ma ci sono due persone che conosco che si mettono lì e dicono vediamo un po' come si scrive, come si crea una cripto, come si crea un qualcosa in quel mondo. Cioè, non lo so, io sempre do questa attitudine. C'è qualcosa, voglio andarne a smontare gli atomi per vedere come funziona, come si ricostruisce, come si modifica, come ci si mette del mio. Non lo so, penso che sia creatività. Non lo so. È molto bella questa cosa. Io credo che l'esperienza che hai avuto anche col Commodore ti abbia aiutato a capire che, tra virgolette, è una cosa che si può fare sempre. Per come la vedo io, è molto più facile, faccio per dire, leggere un romanzo e dire voglio scrivere anch'io un romanzo, che anche soltanto avere l'attitudine mentale di c'è questo programma, c'è questo videogame, voglio farlo, c'è questo sito, lo voglio fare anch'io. Insomma, in ambito informatico, secondo me, dipende moltissimo dal percorso educativo che uno ha avuto. Vedo un commento di First Principle Thinking, mi piace, mi piace, è uno dei miei principi formativi, il First Principle Thinking. Sai cos'è, Rick? No, dimmelo che mi informa. Vabbè, come si può chiamare, ragionare dei principi privi. Spesso se ne parla di Elon Musk a riguardo, cioè non accontentarsi del se sentito dire o delle usanze, si è sempre fatto così, ma hai un problema, piuttosto che vedere quali sono le soluzioni che gli altri usano per quel problema, andare a capire di che costituenti è fatto questo problema, in che modo posso combinarli. L'esempio che si fa spesso è il cook, the cook and the chef, cioè il cook, il cuoco, entrambi cuoco, penso li traduciamo, e il cuoco, il cook è quello che prende la ricetta, la implementa e ti fa quella ricetta. Lo chef è quello che dice, ti dico, prendiamo questa banana, questa zuppa di ceci e del bacon, vediamo se assieme stanno bene. E quindi, quello è lo chef. È interessante perché è una impostazione mentale non passiva, cioè di fatto metti in discussione quello che hai avanti. Sempre c'è, certo, è sempre scetticismo alla base, penso sono ingredienti che conosci, non ti dico nulla di nuovo, credo. Sì, no, no, per carità, però lo trovo molto interessante, soprattutto considerando quello che tu sei andato a fare. Mi è capitato in passato di parlare con persone di professione, facevano gli informatici, i programmatori, avevo un amico che ha lavorato in Olanda, ad esempio, e lui una volta mi disse questa cosa, voglio sapere che cosa ne pensi, immagino che sia una risposta che possa valere ad alcuni livelli e non ad altri. E lui mi disse, no, guarda, non invidiare, no, noi che facciamo programmazione, eccetera, eccetera, perché siamo gli operai, no, del ventunesimo secolo. Il discorso che hai appena fatto tu, in realtà è un discorso legato alla creatività e prendere possesso... Seguo la chat, e quell'amica era Steve Jobs. Ovviamente, ovviamente. Invece il tuo è un discorso di creatività, di critica anche degli strumenti a disposizione. Che cosa ne pensi? Qual è il destino di un informatico? È quello di un mero esecutore di ordini, oltre che in realtà scrittore di ordini alla macchina? O è in realtà una persona che dispone di una forma mentis che gli dà uno step in più? Questo è molto italiano, è molto italiano da parte tua, Rick, fare questa domanda. Tu conosci Boris? Certo, beh, fa parte della mia cultura. Assieme a lui e le storie attese sono i due pilastri sul cui baso la mia vita. Ok. Beh, insomma, perché Steve Jobs era molto italiano. No, nel senso che il programmatore, come ho visto spesso in Italia, sì, è un operaio, però in realtà un software engineer, come viene visto all'estero, come viene visto dalle grandi aziende, è un problem solver, è qualcuno che prende un problema e lo risolve, talvolta anche senza scrivere il codice. Quindi assolutamente no, non vedo il programmatore, non vedo il software engineer, non vedo l'informatico come l'operaio di basso livello. Magari quello che una volta è neancheato perito informatico, cioè non so, il tizio con un diploma, senza che ha poi, non voglio adesso gettare merda su chi ha diplomi, chi non ha studiato, proprio così, però chi esegue, cioè chi prende delle specifiche e le implementa, sì, può essere vista come manovale, tra l'altro stanno già andando varie entità a cercare di sostituirli con le macchine, queste cose qua, queste cose qua, questa è Alpha Code, devo ancora approfondire, devo ancora vederlo e approfondirlo, ma tipo GitHub Copilot e Alpha Code sono due tentativi di automatizzare la creazione di codice, essenzialmente codice da scimmia, cioè quello appunto del programmatorino, ma l'ingegnere informatico è quello che pensa a soluzioni più ampie, cioè no, assolutamente non è un lavoro da operaio. A questo proposito ti voglio chiedere del tuo percorso di formazione e dell'idea, siccome su questo canale abbiamo avuto modo di leggere ad esempio il contributo di Boldrin su Aboliamo il Classico, c'è a mio avviso molto giustamente una lunga polemica su quella che è la formazione della scuola dell'obbligo in Italia, una mancanza di cultura scientifica di base a favore di una certa sacralizzazione della cultura umanistica, tu hai avuto la possibilità di avere una formazione scientifica, di andare a lavorare all'estero in aziende di altissimo livello, avrai quindi sicuramente avuto colleghi di diverse parti del mondo e quindi immagino che la tua sia una testimonianza interessante su come siamo messi, anche se la tua sarà un'esperienza di livello elevato, quindi non vale, è logico per l'intera popolazione italiana, ma qual è l'impressione che ti sei fatto su come sono formati, nel tuo caso, gli ingegneri informatici italiani rispetto a quello che trovi negli altri paesi, come ti è sembrato il risultato della scuola americana, ad esempio tu che hai lavorato là? Beh, là in America non ho lavorato, però l'ho a contatto con molti americani, ma devo dire che io ho esperienze, ho esperienza, ma non penso di averne così tanto, ho visto veramente una finestra piccola sul mondo, cioè come se magari voi dall'Italia, voi dall'Italia che non è una cosa così, siete come te cechi, io magari vedo un pixel, ho visto due pixel di un'immagine, quindi non penso di avere molti più dati, da quel poco che ho visto, quindi opinioni da prendere con le pinze, devo dire che gli italiani che ho visto in Google ad esempio sono super skillati, cioè anzi quasi tutti quelli che ho conosciuto hanno fatto una bella carriera dentro Google, per cui penso che l'Italia alla fine la formazione, cioè chi riesce, chi trova il coraggio di uscire e di finire gli studi e di andare fuori, c'è una bella qualità media, anche perché il percorso di studi in molte altre nazioni, spesso dopo tre anni sei già in azienda, che tra volte è una figata, ho avuto dei colleghi di 21 anni, di 20 anni, che erano già full time in Google, però magari, lo so, manca un po' di spessore e profondità. Ok, qui parliamo solo dal punto di vista della carriera tecnica, la carriera diciamo ingegneristica, informatica, in altri ambiti non ne so tanto, se parlavi prima di aboliamo il classico, queste cose qui, opinioni a riguardo non ne ho ancora di meritevoli di essere espresse. In generale posso dire che, secondo me, io amo alla follia le discipline umanistiche che non conosco ancora, e credo che una vita senza dedicare almeno il 70-80% delle tue energie a quel mondo è una vita, non lo so, che non ha molto senso, però deve essere fatta dopo, secondo me. Secondo me, non lo so, credo che abbia più senso se uno vuole sporcarsi le mani con discipline tecniche, è bene farle early in career, così da darti quella spinta iniziale, e poi dopo dici ok, adesso non puoi restare un informatico che fa solo cose scientifiche a 50-60 anni, cioè fra un po' muori, quando te le fai domande giuste? Quando te le fai queste cazzo di domande importanti della vita? Sono molto d'accordo con quello che dici, mi sembra coerente con una visione della filosofia, della letteratura e altri ambiti umanistici, quasi come un lusso, quasi come qualcosa che ci si può permettere, dopo che ce lo si può permettere, una cosa di questo genere? Good point. Diciamo che io ne faccio un discorso molto quantitativo, faccio una questione quantitativa. Tornarsi indietro, magari potresti che sceglierei di studiare filosofia o psicologia come si deve, sono discipline che mi affascinano, un po' il self-improvement, parolaccia, però mi piacciono i cognitive bias, mi piace proprio studiare l'approccio alla psiche o altri problemi, però sono percorsi per i quali, se fai un grafico su quanto, parliamo soltanto di soldi, quanto ti dà una carriera in quell'ambito, e fai una distribuzione percentuale, magari hai un top 10-20% che fanno una discreta carriera, e gli altri fanno la fame. Quindi se vuoi studiare la filosofia, è molto probabile che finisci in quell'80% in cui fai la fame, e quindi fra 50 anni diventare la tua cugino. Oppure fai Twitch, come nel mio caso. Oppure fai Twitch, però sei ancora, tu sei consapevole che sei nel top 2%, Pensa a te, ed è probabilmente vero, è probabilmente vero. Pensa a te, per cui magari può darsi che, che poi a 50 anni diventare la tua cugino, che fai i piatti doccia, e quella roba lì. Se invece fai l'ingegnere in Google per 5 anni, magari poi dopo puoi permetterti di campare di rendita in qualche modo, e studiare filosofia per i successivi 92 anni. Quindi... E' una bella, una bella idea, una bella spettacola diventa. E' una bella cosa, cioè... Quindi, non lo so, credo che... E' sempre la questione del fai quello che ti piace, ma non necessariamente oggi. Cioè l'obiettivo è l'integrale da oggi a quando muori, di far più tempo possibile le cose che ti piacciono. Può darsi che quella strada lì passa per adesso far mangiare tanta merda, e poi dopo far quello che ti piace come si deve. Bello. Però questo qui c'è anche un altro rischio, non so che conosci di optionality trap. No, insegna... Quanti link voglio mandare? Quanti link voglio mandare? Voglio mandarti... Poi metto tutto in descrizione su esa chat, te li chiederò. Sì, sì. Ma c'è... Allora, a me piace sempre anche vedere opinioni che a un certo punto si solidificano in medio. Ok, no, questa qui è una verità. Vediamo se c'è qualche stronzo che pensa al contrario. E vediamo quanto sia soltanto pensa al contrario, tanto per... Uno dei fondamenti, da 15 anni a questa parte, in me è sempre stato l'intelligenza è crearsi più opzioni possibili, è sempre tenere aperte le opzioni. E c'era anche qualcuno che aveva scritto degli algoritmi di machine learning in cui massimizzava solo le opzioni future e scopriva che ad esempio un robot che imparava a tenere in mano un bastone perché hai più opzioni se hai ancora il bastone in mano. Se casca hai zero opzioni, no? Quindi un modello di intelligenza anche artificiale del teniamo aperte le opzioni possibili. Se vogliamo è un po' quello del tipo non ti bruciare le tappe oppure fai questo che ti porta più possibilità. Però poi c'è tutta la corrente degli opzionalisti che perseguono sempre più opzioni e quindi non ti nasce il Kurt Cobain in quello scenario perché nessuno conviene fare quella roba lì o nessuno conviene diventare un artista e quindi c'è il tizio che dice vabbè studio economia poi ok vado a lavorare un po' in JP Morgan però i 92 anni di casa che ti piacciono non avrei usato Kurt Cobain come esempio. Non sai, magari a quella intensità la vita scorre vicina alla lucidità della luce per cui dura di più, non lo so. Tutto questo discorso che tu fai e che trovo assolutamente giusto e ragionevole mi fa pensare, sempre per dare qualcosa in pasto anche a coloro di formazione umanistica che stessero vedendoci mi fa pensare a come il nostro sistema di istruzione una certa sacralizzazione, mitizzazione delle materie umanistiche senza considerare l'aspetto economico sia quasi una trappola, quasi un depistaggio nel quale alcuni di noi, me per primo cascano convinti attraverso gli studi umanistici prematuri, in base a quello che tu hai appena detto di andare a inseguire un'eccellenza che in realtà non si possono permettere o che molto difficilmente potranno raggiungere proprio perché è estremamente improbabile. Questo fa sì che, secondo me il dramma vorrei dire tra virgolette, ma in realtà secondo me le virgolette non ci sono il dramma di molti di noi è quello di avere un percorso invertito che chiaramente significa trovarsi nel posto sbagliato o nell'età sbagliata dove fare una giravolta può risultare complicato e quindi ti voglio chiedere questo e poi aggiungi tutti gli spunti che ti vengono naturalmente il tuo è stato un percorso in questo senso lineare, programmato hai avuto una visione così diciamo da una visione così economica anche e qualcuno in ambito umanistico ti darebbe dell'homo economicus qualche marxista sicuramente hai avuto una visione di questo genere sin dall'inizio le idee chiare di che cosa mettere in cascina subito eccetera o invece quanto c'è stato di serendipità o altro? ok, ok no, vabbè do I look like a guy with a plan direbbe un joker qualsiasi no, in realtà no ho molto navigato a vista poi ragazzi non mitizziamo io al mio compleanno di 30 anni ero un barbone di Dio stavo scalzo sulla balduina era una roba del tipo non è che avevo fatto chissà che ho lavorato molto sulle mie skill e poi a un certo sono fiorite in un universo in molti universi paralleli ora stare ancora a campo dei fiori con la chitarra in mano e via ma sono immagini metaforiche o reali? basta sono citazioni di Boris no, lo conosci proprio a memoria mamma mia si, si, basta esci da questo corpo esci da questo corpo no, devo darci un taglio scusa no, no, ma vai vai, vai che è molto apprezzato aspetta mi sono perso no, non ho fatto grande planning anzi sono molto arrabbiato con me stesso tutto quello che faccio io adesso è una sorta di ribellione alla mancanza di come si chiama di una parola che uso spesso che adesso non ricordo che è intenzionalità cioè io penso che non lo so quello che vorrei portare anche come messaggio online nel mio percorso e ho scritto un channel trailer che devo ancora registrare però in cui dico ok, che ci faccio io online cosa voglio portare cosa voglio trasmettere e c'è il percorso di intenzionalità cioè fare una vita intenzionale non lasciarsi trasportare non lasciarsi trascinare quindi prendersi responsabilità e essere intenzionali e io per tanto tempo troppo tempo non lo sono stato così tanto ho fatto un po' quello che sembrava ragionevole fare quindi dai sto all'università facciamo un po' di ricerca quando mi sono proprio stufato un amico è andato a lavorare in milestone ha fatto dai vieni qua a lavorare con me ok ho fatto i colloqui li ho passati in milestone poi dopo un amico è andato in google ha fatto dai vieni qui con me manda il curriculum dove vado così e quindi sono molto poco intenzionale la mia unica intenzionalità è stata sempre quando non ce la facevo più mi licenziavo senza anche avere opzioni per cui quando vedevo che non c'era non c'erano più scelte ne costruivo io una seconda cioè per me quando vedevo che andavo in direzioni in cui non c'erano altre scelte oltre a continuare a fare questa roba qua scivo fuori di un aspetto c'è sempre un'altra scelta il mollare tutto andare sulla montagna e quindi il messaggio è l'intenzionalità nello stato molto poco negli ultimi nell'ultimo quinquennio me lo sto costruendo adesso cerco di fare una vita puramente intenzionale quindi quello si è quello per me è un po' un obiettivo essere intenzionale è molto interessante questa cosa penso sia superfluo dire che bisogna poterselo permettere e questo mi fa pensare ovviamente alla tua pensione al tuo retire in progress che ti caratterizza e a proposito di intenzionalità di essere un baby pensionato lo dico ovviamente per scherzare nel senso che non lo sei da un punto di vista storico diciamo così legato ai baby pensionati ma non so neanche un pensionato sto lavorando molto di più è l'epoca della mia vita in cui lavoro di più però c'è anche la gioia io ti voglio chiedere questo tu con le possibilità che hai sei apparso online questa cosa quando una domanda che mi faccio spesso è questa se io fossi milionario farei quello che sto facendo se avessi la possibilità di fare tutto quello che mi piace che cosa farei davvero qual è la cosa dimmi che stai già vivendo da milionario non che tu sia milionario magari sì a volte sì a volte sì tu stai ai miei occhi e quindi adesso anche se non è vero mi devi dire che è vero tu ai miei occhi stai vivendo la tua vita ideale ci provo in tutti i modi è diciamo pure la mia stella polare è esattamente quello che cerco di fare per questo sono anche una persona che cambia molto spesso sono molto la tipologia di persona che si rigira nel letto finché non è comoda è un pochino il mio limite però è proprio la ricerca di dire quanto riesco a sfuggire alla necessità che ovviamente non è possibile in assoluto e essere che mi piace molto il termine che ho usato e sicuramente lo farò mio essere intenzionale come hai detto giustamente tu mi ha colpito il fatto che una persona che ha così tante cose in ballo e possibilità come te curi e dedichi un tempo chiaramente prezioso poi soggettivamente il tempo di ciascuno è prezioso per sé ogni scarrafone ogni tempo è bello a mamma soia lo dedichi alla presenza online e perché ti dico che mi colpisce mi colpisce perché la presenza online a me fa oscillare fra un sono intenzionale mi esprimo figata dico quello eccetera eccetera e l'incessantismo internetiano che ti costringe a quella frequenza in uscita del pensiero che a volte vorresti dire ok adesso mi prendo tre anni per studiare ci vediamo fra tre anni così ho qualcosa di nuovo da dire e un pochino oscilo tra queste due cose tu che hai tre anni li puoi prendere quando ti pare mi interessa il fatto che sei qui vorrei fermare il tempo e rispondere in tre ore a questa cosa a questi sassi che hai lanciato se ti va se ti va io sono felicissimo davvero non scherzo non ce l'abbiamo nel senso che gran bella cosa io anche sono un per me la parola passione se ci pensi adesso non so bene se l'etimologia è giusta dirò una cazzata galattica però è una cosa un po' passiva ha a che fare con la stessa cosa cioè per me la passione è una roba che un po' ti consuma non è azione non so che passione ha a che vedere con il dolore non so se l'etimologia abbia qualcosa a che vedere con la passività ma diciamo che c'è un'assonanza quindi ci va bene lo stesso in genere mi lascio appassionare mi lascio prendere dalle passioni in genere le divoro le brucio finché non mi bruciano loro a me e poi mando affanculo e cambio e tra tre anni farò il contadino in Belize non lo so quanto ti capisco però la domanda che mi faccio è secondo me a questa età verso i 40 non lo so cominci a vedere il tempo che ti rimane che non è tantissimo e quindi dici ma se ti dico tante cose che forse è meglio fare perché mi dicono che sia meglio farle non me ne frega più un cazzo quindi dico ma se io ok mi lascio consumare da sta roba qua mi diverto fra tre anni mollo tutto e faccio un'altra cosa figa magari vado a fare windsurf oppure non lo so mi dedico a un'altra passione è così sbagliato oppure dovrei gestire le energie affinché questa passione che rappresenta il me stesso di adesso fra vent'anni ancora stia su e chi me lo dice che fra vent'anni è quello che ancora voglio fare magari avrò solo risparmiato sesso per la terza età chi è che lo diceva? Warren Buffett qualcosa del genere non ricordo in base a cosa ma dice come dice non trombo oggi perché così poi non lo so quindi quindi ci sta che anche se sento anch'io che può essere faticosa stressante mi sento tanti doveri cioè mi sento veramente di dover far cose di prendere impegni ho promesso 50.000 diversi tipi di live e di contenuti che dico quando cazzo li faccio? io ho anche tre figlie e quindi mi dico ma sai che c'è fra un po' adesso spingo 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 quando non ci faccio più sparirò e farà figata rip è sparito figata non lo so può darsi può darsi sì può darsi sì no però in questo momento mi sta dando gioia per cui lo faccio lo faccio solo intenzionale lo faccio perché mi dà gioia non ho doveri tendo a prendermi tendo a essere molto responsabile per cui mi risento addosso dei doveri e poi comunque è un annetto che sto online con la faccia prima per cinque anni ho blogato ammetto che il blog mi piaceva tantissimo mi piaceva forse di più perché era un ritmo aveva una cadenza la mia programmazione era quasi mensile scrivevo un articolo forse a settimana belli lunghi tre giorni in cui scrivevo articoli di notte chi se ne frega me li rileggevo era un lavoro più lungo qui invece vivo alla giornata e non mi piace vorrei anche io prendermi tipo due settimane di tempo per mettermi lì pensare a un contenuto fare io dico spesso mi piacerebbe fare un corso io proporre un corso ma non per vendere il corso perché un corso significa che mi dovete lì ripulire essere essenziale se no a me dispiace che faccio un video come l'altro ieri un video in cui parlo di investimenti durerò tre ore magari le stesse cose potrò dirle in tre quarti d'ora e quindi mi spiace costare alla gente fatica di stare tre ore ad ascoltarmi quando magari preparandolo avrei potuto preparare un contenuto di un'ora con le stesse informazioni sono un po' divagato in qualche percorso no 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 invece mi hai offerto l'assist per la domanda dopo perché tu conosci sia come produttore di contenuti mi riferisco sia Twitch che YouTube ti dico come la vedo io per me Twitch è una piattaforma molto bella su cui stare per la chiacchiera con il pubblico che consente di approfondire domande risposte posso stare tre ore a parlare di qualcosa e sicuramente vado più a fondo che se faccio il mio videino di 15 minuti al tempo stesso ti viene sempre da dire ma è come se questa piattaforma mi trascinasse con sé e e non riesco a staccarmi per le tre settimane per preparare la bella composizione saggistica no la bella canzone di una volta e e quindi voglio sapere da te che sei una persona capace di essere metodica e quant'altro voglio sapere da te come come vivi questa oramai insomma celeberrima dicotomia fra queste due piattaforme no è molto interessante è un pensiero o pensieri in divenire allora io mi sono subito la mia forza secondo me è che mi sono subito preso un gruppo di un gruppo di persone che le reputo fidate e sono nel mio quello che chiamo il rip il cda il consiglio di amministrazione tra cui c'è uno che aiuta molti streamer o un altro che mi fa fa un sacco di lavori per me è molto bello e quindi internamente discutiamo spesso facciamo anche tipo un meeting mensile in cui ci vediamo facciamo chiacchierate e c'è stato per tanto tempo il no dovresti fare twitch no dovresti andare su youtube io nasco come youtuber ma youtuber intanto che lavoravo su youtube e quindi ci chiamavo youtuber dentro e io streamavo su youtube all'inizio e poi ho iniziato a provare twitch twitch è molto più intuitivo come streaming è fatto per lo streaming ha un click che sei online è molto più più bello però mi sono detto faccio un esperimento sono 3-4 mesi su twitch eventualmente poi se l'esperimento non va bene torno su youtube poi le mie pensieri su twitch sono i seguenti a parte che mi hanno bocciato nel cta ma ma non so se accetterò perché alla fine sono sempre dittatore sono io una gag su twitch è bello fingere di essere democratico sì esatto ho una gag sui meccanismi di twitch che la voglio fare io odio un po' ma twitch su me non è non è il massimo per un adulto non è il massimo per un adulto perché primo tutta l'etichetta di twitch a me non fa impazzire il ok dover ringraziare quello che ti dà la donazione è un gesto carino lo so va benissimo ragazzi però nella mia gag l'altro non la faccio la racconto voglio fare una gag in cui facevo finta di intervistare bill gates con un video registrato di bill gates sono molto emozionato grazie parliamo gli faccio la domanda più profonda dell'universo del tipo ma quali sono le challenge dell'umanità mentre mi parlo a parte ding ding grazie scorricina impazzita per la donazione quella voce robotizzata del tipo ciao rip ma bill è un rettiliano con delle gag e lo interrompo perché devo rispettare l'etichetta però vabbè è complicato registrare l'ho abbandonata questa gag quindi la filosofia di twitch qual è? è che tu i soldi li fai se parliamo dal punto di vista economico li fai perché i ragazzini ti danno i loro due euro di prime quindi tutti stanno tutti i pesci non so come quando vai al pollaio e hai il ciuffo d'erba che strappi e lo svento durante le galline le galline vengono lì vicino per vedere chi mangia quei soldi lì quindi sei incentivato a stare tutto il tempo online e quindi è in base a quanto tempo stai online poi la qualità dei contenuti conta però oggi ho visto anche il numero di iscritti che ha la gente è proprio proporzionale al numero di minuti che sta online perché perché viviamo in un'epoca in cui il ragazzino che va online gli scade il prime può ridarlo non è una persona del ragazzino medio scusate pubblico ma ti sto insultando spero spero che il tuo discorso non sia troppo rappresentativo del nostro pubblico esatto ho visto ci sono canali un po' più diversi però il ragazzino ha quel gettone prime in mano e ha la capacità di attesa di un pesce rosso per cui chi c'è online in quel momento gli do il gettone pam quindi tu devi stare lì pronto a intercettare il gettone che ha tre secondi di tempo e infatti ti posso dire che se c'è una strategia suicida è quella che io faccio cioè può sembrare una cosa normale ma su Twitch è raro cioè io il sabato e la domenica salvo eccezioni non vado in diretta e io vedo perfettamente che ogni volta è un e poi si risale il martedì sono tornato dove ero venerdì e poi si ricomincia ed è una cosa la piattaforma Twitch è fatta perché tu come minimo sia in streaming sette giorni su sette è una roba e poi non parliamo delle ore al giorno che sarebbero che contenuti che qualità di contenuti può uscire fuori ma che tempo hai per ad esempio di recente ma credo che anche Rick non so se adesso è ancora qui comunque credo che anche Rick si stia facendo di queste domande ti viene proprio da dire vorrei studiare Rick Dufer vorrei studiare su Twitch ti viene da dire ottimizzo uso Twitch per studiare studio con il pubblico e allora ecco che però però che fa tutti fanno tutti quanti sempre online veramente poi diventa molto distoglio ok la metafora se tutti facessero così è una metafora di merda non si fa è una fallaccia però che incentivo non lo so qual è il problema qual è il problema dell'umanità no a me molti mi scrivono ciao Giorgio voglio imparare il Python non so come si fa riguarda c'è internet il problema è che c'è c'è troppo vogliamo aumentare il noise già c'è poco segnale già c'è poco siti non è tanto noise no se la piattaforma d'incentiva aumentare il noise non lo so non lo so quindi non so non penso di essere uno streamer non penso cioè io faccio gli eventi YouTube lo streaming diciamo le live li ha pensati come eventi organizzo un evento c'è quella live a quell'ora puoi farne uno al mese è un evento su YouTube e io quello che faccio in realtà faccio eventi dico ok domani sera sono in live da quest'ora a quest'ora non sono uno streamer che sta online quella percentuale di ore quella quantità di ore che è un lavoro full time quindi probabilmente probabilmente Twitch non fa per me poi c'è chi dice ah ma l'aspetto economico l'aspetto economico a parte che boh non lo per me non è se è il mister rip cioè tu giustamente puoi fare il chattone poi sono super trasparente tant'è forse che prima o poi mi banneranno loro perché perché io dico le cose le maschero un po' adesso le offuscherò ancora un po' di più però però le dico le cose chi vede i miei numeri sa l'impatto di Twitch sui miei numeri e quindi non è che lo faccio per gli aspetti economici l'ho iniziato a fare ho iniziato a streamare su Twitch perché veramente connettere OBS con YouTube le prime live chi le ha viste si ricorda che andavo in live ero su un altro evento non su quello che avevo schedulato la streaming che io ogni volta devo cambiarla eravo fastidiosissimo Twitch è molto più intuitivo quindi per pigrizia sono venuto su Twitch però farò una riflessione da qui a un mese ne parlerò col mio CDA vediamo è molto diviso questo qua il CDA è molto diviso molto diviso però adesso vediamo ti voglio chiedere una cosa molto diretta qual è il tuo rapporto con la fama fama relativa naturalmente non sei Fedez però voglio voglio comunque sapere che gioco qual è il ruolo qual è l'impatto che ha su di te come metterci la tu dicevi è un anno che ci ho messo la faccia realmente e diventi diventi un personaggio che ti piaccia o meno ma qui a Zurigo mi fermano qui a Zurigo negli ultimi mesi una decina di persone ah tu sei Mr. Rip grande grande uno si è fatto un selfie con me selfie vabbè immagino che se mai rivenissi in Italia perché se vengo in Italia può darsi che la gente mi ferma non lo so qualcuno mi riconoscerebbe non sono allora un po' sono zoccolo da palcoscenico ho fatto teatro a me un po' piace un po' piace perché siccome ne ho cento devo scegliere ci pensiamo ci pensiamo ci pensiamo ci pensiamo adesso l'ho stato tutta la live come quando non so in quegli incontri in cui devi presentarti tu sei tipo il trentadovesimo e tu non senti un cazzo quello che dicono gli altri quello che dicono chi sono loro perché quando tocca a te devi pensare che lo presentarti no dicevo The Elephant in the Brain è un libro capolavoro scritto da Kevin Simler che è un ricercatore in ambito neuroscience e Robin Hanson forse più famoso forse conoscerai Robin Hanson quello di Overcoming Bias Overcoming Bias magari sono cose che ho sentito non è il mio genere di letture ma per mia colpa per mia colpa mi sembra perfetto se penso The Elephant in the Brain penso che sia un libro proprio per te parla appunto The Elephant in the Room è la social norm che noi facciamo finta di non vedere ok The Elephant in the Brain è il nostro i nostri motivi nascosti che facciamo finta di non vedere molte volte si arriva a concetti simili da percorsi totalmente diversi però il claim tra i vari claim del libro c'è che noi in realtà ci raccontiamo di star facendo delle cose per alcuni motivi in realtà ne abbiamo alcuni che non solo non ammettiamo pubblicamente ma spesso non li ammettiamo neanche a noi stessi però se ci impegniamo poi andiamo a vedere li affrontiamo magari possiamo diventarci amici ce li abbiamo voglio star lì perché voglio avere più potere far più sesso far più soldi e il mio ego voglio che la gente mi adori c'è c'è una parte di questo qua no io mi racconto che voglio fare le cose perché voglio dare essere benefattore ma non lo so quindi sicuramente l'approccio con la fama a questa dimensione non mi dispiace in realtà è già un po' troppo oltre quando ero un po' più piccolo quando ero un po' follower brutto avere follower il mio audience era più limitato riuscivo ma ancora adesso riesco a riconoscere per nome cioè riconosco quelli che mi commentano per nome un buon 50% dico ok ciao come stai alcuni ho un dialogo al di fuori del mio gruppo ristretto ma ho un dialogo ti capisco quando arrivi penso a uno zero in più a uno zero in più non so io adesso su youtube ho 36 37 37 mila comunque sono cresciuti tantissimi in un anno chissà l'aspettavo ancora ho un rapporto con le persone se cresco di uno zero in più immagino shy non so non conosce più nessuno della sua community questo è un po' o ti crei una sotto community quel padre ti crei una sotto community di gente che poi a me non piace far pagare la gente per avere l'apriori legge di parlare con me non lo so è una roba che non ho tutta questa stima di me stesso per sentire la mia impostor sindrome schizzerebbe però dicevo il rapporto con la fama prima questa dimensione è gestibile probabilmente se se fossi più più famoso avrei non reggerei non sono molto bravo sono un po' tendo a essere un po' blastante cioè io se uno fa un commento io tutti gli altri tuoi video sui commenti la tua diatriba li apro li spengo li prendo in considerazione li banno non li banno non lo so io ci perdo troppo tempo e quindi blasto e quindi magari poi dopo non lo so poi ci sto male no? dico ma tu sei una merda se io ho un anno che sto qui mi faccio fatica e vieni dai e fai ripeto solo cazzate ma tu chi cazzo sei? ah poi spesso sei uno anche anonimo uno che non ha fatto niente uno che non ha poi anonimato è un altro discorso un po' ampio cioè vabbè quindi non lo so come mi rapporto con la fama se volevi risposte da me no 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 ma mi piace questa risposta cioè mi ritrovo molto nelle tue perplessità nei tuoi dubbi anche il discorso delle perdite di tempo ad esempio per me la gestione io faccio anche le live per avere una scusa per non cagare i commenti nel senso la mia filosofia adesso è raga mi volete dire qualcosa il il bi scienziato riceve dal lunedì al giovedì alle alle 15 proprio perché ci sono una serie di perdite di tempo collaterali legate al fatto di esporsi online che sono per me ammorbanti ad esempio il discorso di essere di mettere dei contenuti su youtube e il contenuto su youtube è sempre aperto ai commenti ovviamente non Cantina Uesa ma Uesa Channel ad esempio sì è sempre aperto ai commenti e questo fa sì che in ogni momento tu potresti aprire l'app di youtube creator e trovare qualcuno che ti dice qualche cosa non necessariamente di negativo ma comunque ti attiva il cervello ti distrae ti prende la tua attenzione eccetera è veramente una cosa a cui magari quando inizi e dici beh mi va di salvare l'umanità oppure di trovare da far bene con con cento amanti no ovviamente scherzo non ci avevi pensato magari all'inizio comunque non avevi preso in considerazione il fatto che ci sarebbe stata tutta una gestione che magari è magari la tipica cosa che deleghi a qualche ma all'inizio è gestibile la cosa bella all'inizio è anche figo da gestire in creator in creator più piccoli di me magari che sono miei amici che hanno molti meno commenti o molte meno interazioni no vedo che si permettono il lusso di fare una live di risposta ai commenti no rispondo ai tre commenti che ho ricevuto e quindi c'è tempo di elaborare ma anche io stesso un anno fa magari riuscivo a fare una live in cui rispondevo a cinque commenti adesso è impossibile adesso mi fa male dico i commenti molti devo prenderli cosa faccio adesso è che prendo il link al commento e me li metto in una in una cartella di bookmark tipo da rispondere però sono tipo ormai 200 e mi spiace sono dei commenti che dico che bel commento non riuscirò mai a rispondere di mannaggia il cazzo quindi è un peccato perché a me mi piace cercare di rispondere a tutti però è un lavoro è un lavoro che non scala soprattutto non scala perché la risposta al commento non ha l'attenzione globale almeno uno non lo fa non si prende il tempo e prende dieci commenti coerenti e fa un contenuto in cui risponde a tutti questi commenti se no è faticosissimo non lo so deleghi a tu ci deleghi a qualcuno io ecco forse col delegare ho un po' di problemi questo mi interessa molto perché io è una cosa che mi fa venire l'orticaria il pensiero non deleghi ancora niente di niente one man army e non davvero per me essere qui a fare questo è perché nonostante tutte le mie pretese di pragmatismo mi rendo conto di avere dei tratti da anarchico nel senso che io sono una persona che non concepisce di avere un'altra persona sopra di sé in una gerarchia né sotto di me è una cosa per me non riesco a concepire di essere dipendente di qualcuno né di avere qualcuno che è un mio dipendente è proprio una cosa a cui sono allergico questo ha il bello che ti senti un pochino il vero regista e molto rende la tua vita più intenzionale come dicevi giustamente tu ma al tempo stesso da un punto di vista organizzativo presenta dei limiti molto grossi dimmi un po' tu cosa ne penso ovviamente il pensiero è multiforme e work in progress pro e contro ovviamente il pro è che puoi scalare puoi scalare puoi fare più cose se deleghi quindi io cerco di delegare le cose che sono oggettivamente soltanto task time consuming quindi non lo so ci sono pochissimi che sono puramente time consuming quasi tutti sono richiedono un po' di intelletto un po' di un po' di te un po' di tua presenza però alcune cose possono essere delegabili lo sto piano piano facendo uno dei ragazzi del mio cda che è quasi il mio assistente ufficiale al momento tutto quanto viene fatto in maniera volontaria però vorrei anche in qualche modo se c'è budget se c'è business però ecco mi spaventa sta cosa qua ho detto la parola che mi spaventa ho paura a far diventare sta roba chiamarla business perché perché magari vedo non lo so se cresci e devi prendere persone che ti aiutano poi non puoi decidere di prendere tre mesi in montagna perché quella persona magari ha bisogno del tuo stipendio è quello il problema poi sud vpn cambia cambia polo cambia non ho voglia ti dico dal mio punto di vista conoscendomi da pigro che si vuole sempre riservare il fatto che se non è domattina la settimana prossima posso cambiare vita l'idea di iniziare è una cosa che io personalmente nel mio percorso su internet a un certo punto mi sono proprio trovato a decidere se continuare a salire oppure fermarmi e io ho scelto di fermarmi proprio perché continuare a salire significava iniziare ad allacciare una serie di responsabilità con altre persone eccetera che fermandomi a riflettere era esattamente il contrario del motivo per cui sono qui e questa è una cosa come ti posso dire che però toglie io sono una persona che ha poco orizzonte questo non so se è una cosa che caratterizza anche te ma mi sa che forse qui siamo un po' diversi io tendo a non essere un grande pianificatore e paradossalmente tendo a difendere il non essere un pianificatore è chiaro che tutto questo come ti posso dire esiste una pressione sociale verso comportamenti attesi di gestione organizzazione crescita che ti fa sentire a volte in difetto per quelle che sono delle cose che pretendi per te stesso e che senti essere in realtà sinonimo di saggezza no? è vero e qui esce il Björjoon Han che è in te credo credo che stai più o meno dicendo quelle cose lì no? anche anche sì no sono ovviamente completamente d'accordo anch'io rigetto le gerarchie rigetto avere qualcuno che mi dice cosa fare e rigetto dover chiedere a qualcuno cosa fare quindi sempre con la punta dei piedi tipo se ti vado ad aiutarmi ho questo task che mai e quindi sono d'accordo con te ma tu in questa situazione stai ti senti in un equilibrio anche di soddisfazione economica ci stai bene oppure ti manca qualcosa o vuoi crescere oppure dici oddio cosa crolla domani che succede non hai piani anche tu vai l'equilibrio l'equilibrio è sempre è sempre quello del sono in equilibrio nel senso che quello che faccio è sostenibile e ho sempre come se fosse uno strabico esistenziale oddio scusami questa orrenda espressione come se fosse uno strabico esistenziale un occhio guarda avanti alla nebbia e chiana che mi separa dalla realtà e un altro occhio invece guarda di lato sempre sfogliando la margheritina dell'exit strategy e della prossima stronzata che farò e quindi è uno strano è uno strano modo di andare avanti ma lo difendo perché l'alterativa non mi piace cioè so di essere allergico a un altro genere di 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 modo di stare di stare al mondo diciamo così se ti venisse ah se ti intervisto se ti venisse impedito di fare quello che stai facendo cosa faresti? cioè il prossimo tipo domani tac domani devi cambiare per legge cosa faresti? è interessante penso che cerchere scrivere sì 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 mi rischierei mi rischierei proprio un ritiro non mi posso permettere un ritiro come il tuo però mi rischierei un ritiro di un periodo il più lungo possibile per studiare e quindi lavorare a una produzione più lenta questo penso che sarebbe la cosa che farei ovviamente è una follia però oramai credo che farei una cosa di questo genere tu hai lavorato in realtà strutturata di altissimo livello ti voglio chiedere banalmente ti voglio chiedere di Milestone e di Google ma perché sento di avere delle curiosità sono sicuro che tu ne avrai già parlato a fondo qualcosa ho anche già visto quindi mi scoccia chiederti di ripeterti però diciamo versus il discorso anarchico per così dire che abbiamo fatto fino adesso cresciuto con un Commodore 64 come me cresciuto in un in un in un epoca in cui l'immaginario di un bambino si riempie spontaneamente di videogiochi e quindi li tieni in una considerazione che le generazioni precedenti non possono avere tu sei andato a lavorare a Milestone che è forse ancora la più grossa realtà italiana di sviluppo di videogiochi sono un po' fuori non so che altri ci sono altre quattro famose però credo sia ancora una delle più importanti insomma quindi uno ti potrebbe dire ma cazzarola hai realizzato il sogno di tutti noi bambini tu sei stato proprio nel parco giochi diciamo che letteralmente è quasi un parco giochi ma non è un parco e i giochi si sudano quindi ti voglio chiedere un pochino ne sei uscito disilluso ne sei uscito io in realtà ho già visto dei tuoi contenuti su questo però voglio sapere che cosa pensa uno che passa di qua ah ma quindi questo ha lavorato in Milestone è un appassionato di videogame che col Commodore 64 aveva già un'ottica di sviluppo videoludico sin da bambino che figata quindi fuochi d'artificio ma io infatti ho sempre voluto fare videogiochi perché io quando giocavo quando giocavo ai videogiochi poi vengo da un'epoca in cui i videogiochi che sono diversi con i giochi tu adesso però ho sempre detto ma no ma chi è che ha pensato Civilization ok Sid Meier chi è che ha pensato non so Carmack ho sempre detto ma io questa gente la voglio incontrarla per strada quindi adesso voglio io fare videogiochi e voglio girare per strada così la gente mi incontra vedi la fama vedi la fama e voglio dirgli io ecco la cosa bella andavo nelle feltrinelle andavo nei posti o nei GameStop a vedere se gente toccava i giochi che ho fatto io gli fatti quello l'ho fatto io l'ho fatto un paio di volte non è che ci andavo di proposito però ci passavo a noi per vedere se erano usciti i giochi che avevo sviluppato io e andrei al bambino col nonno quello fatto io guarda i crediti però poi in realtà non c'è mai tempo di fare queste cose qua il mondo di videogiochi è un'industria che ti devasta l'animo cioè tu a un certo punto primo li odio li odi i videogiochi io ho smesso di videogiocare in MyStar ho smesso di videogiocare a tutto perché è quella che chiamo la sindrome del gelataglio io sono goloso come una merda ma se penso se mi facessero lavorare in gelateria i primi tre giorni mangerai il tolgiato io ma dopo una settimana non vuoi più mangiarne oppure come se facessi il ginecolog forse quello forse quello però però quello è nei videogiochi è simile cioè comincia guarda tutto con occhio clinico e quindi esce un altro gioco uscì ricordo Team Fortress 2 quando stavo in Milestone e tutti ne parlavano in realtà che si era passati a giocare da da Call of Duty a Team Fortress in pausa pranzo che cosa figa era pausa e pranzo lo spara tutto in 80 persone quella cosa figa e ricordo tutti però a parlare guarda questo dettaglio quindi forse ci siamo sparati in quell'epoca perché anche io ho giocato a Team Fortress 2 quando è uscito io ero una pipa io se giochi qua sono una pipa mi metto lì e faccio le team kill faccio il cazzone nei giochi di moto vado contro mano e si cazzano sono la sua pessima queste cose qua trollavo e basta ma però per dirti si stava sempre con l'occhio critico non ti godi più niente non te la godi però ecco lato sviluppo è stato molto bello cioè lato carriera è stato utile molto utile star lì per oltre 3-4 anni è un po' un suicidio perché prendi pochi soldi pochissimi soldi però puoi imparare imparare veramente tanto è un trampolino Milestone è stato un trampolino ideale specialmente a quell'epoca Milestone sviluppava la sua engine la sua game engine quindi ho lavorato ho stato anche la fortuna di lavorare nel team dell'engine per un bel po' e quindi erano il team di quelle 6-7 persone elette che lavoravano nell'engine magari erano 30 che lavoravano nei menu lavorare nei menu ok sì lavori nel videogioco però però è meno ti stai facendo meno skill lavori nell'engine stai studiando paper scientifici capito? quindi per implementare le ombre o la generazione procedurale di asset grafici oppure lo streaming delle texture a suo tempo ricordo uno dei prodotti più figli che ho fatto e quindi quindi sì quindi ha degli aspetti positivi complessivamente l'esperienza è stata utilissima per fare poi il resto che ho fatto presa in maniera isolata l'esperienza è stata un minimo disilludente lo è stato ma un po' io la mia carriera è da un fallimento all'altro un po' come Kubrick perché ho fatto ricerca in robotica da ragazzino cavolo voglio fare robocop voglio costruire robot vado lì e dico ma che è sta merda videogiochi voglio adesso io sto lì invento dico la mia mi dice vai in un posto dove fanno giochi di corse sotto licenza non puoi dire la tua niente no cioè la moto di Valentino Rossi si muove così e tu non puoi manco mettere quando casca nel fango si deve sporcare ma non è il numero 40 cioè c'erano veramente delle regole del genere cioè i brand divengono a dire ah no beh certo se la mia moto casca non si deve rompere perché la mia moto è perfetta se si sporca di fango non si devono sporcare gli sponsor di fango tutte le cose allucinano quindi tu hai veramente pochissima in giochi su licenza se stai creando una tua intellettual problem una tua IP ovviamente puoi creare il cavolo che vuoi però quindi anche lì disilluso ma come voglio andare lì e mettere metterci creatività quindi niente poca creatività anche lì e quindi via poi Google aspetta aspetta prima di andare a Google voglio rimanere ancora un po' sul lato ludico epoca Commodore 64 mi viene in mente Manfred Trenz la mente l'unico creatore creatore unico di Gianna Sisters o di Turrican giochi giochi di un'altra epoca in cui ancora avevi quella sensazione un uomo solo alla tastiera no? in qualche modo questa cosa esiste ancora nella scena indipendente esistono giochini molto molto poco mi aveva affascinato tantissimo quando era nato Braid da un punto di vista tecnico non ti ha mai sfiorato non ti ha mai sfiorato quest'idea di ascolta certo un MotoGP non lo fai da solo ma magari un giochino che è arretrato da un punto di vista tecnico però può essere una grande perla in realtà è una cosa che ti è mai passata per la testa? sì sì sempre tutti i giorni penso che il prossimo cosa che farò quando deciderò anzi forse lo faccio già fra poco ho anche mezzo detto alla community che penso mi andrebbe fra un po' di cominciare a pensare a un progettino informatico di un videogioco e magari farlo anche collettivamente accettare codici da altri fare code review magari anche in pubblico poi essere dei contenuti molto interessanti quindi per me il sogno di fare il mio videogioco ce l'ho sempre e ce l'ho sempre assolutamente sì poi ti chiederò siccome sto imparando Unity ti chiederò degli aiuti disperati sì sì io non ci ho mai lavorato a me il C Sharp non mi piace però perché no se sarei voluto non so bene com'è oggi non ci ho mai lavorato però ecco io siccome sono una pippa appunto da grafica sono una pippa galattica a me piace programmare quindi ho sempre fatto anche per mia passione giochi testuali giochi in cui c'è molta logica dietro però l'interfaccia fa cagare non sono uno che non sono bravo con la grafica sia grafica in termini di produzione di asset grafici sia computer graphics non ho mai smanettato con cose varie però sì mi piacerebbe rimane un sogno ad esempio sono andato molto infissa 4-5-6 anni fa per Stardew Valley non so se lo conosci sì di fama lo ho presente il gioco non ci ho mai giocato è un gioco di due giochini fai la tua fattoria a mille chicche sviluppato in teoria da un singolo da Eric Barone che tra l'altro quello ha 23 anni era già plurimilionario per questo gioco però è un esempio è un caso di successo tra l'altro è fatto con Unity è tile based so queste cose sì so che la tecnologia non è proprio il massimo però chi se ne frega chi se ne frega se ne frega no resta nel mio scusami Giorgio ti voglio fare un'ultima domanda ludica prima di passare a Google che ovviamente c'è la ciccia vedo chiaramente che tu hai un sacco di bei giochi da tavolo dietro di te e lì c'è sempre c'è sempre della logica della matematica coinvolta nello sviluppo di un gioco da tavolo siccome sei uno che si triggera in positivo ti domando ne approfitto ti domando se tu che sei un cultore dei giochi da tavolo hai avuto progettini hai iniziato cose figurati se la risposta è no sono curioso di sapere cioè se è un altro ti dico che io voglio bruciare le mie carriere velocemente ti passo alla prossima cioè non vedo l'ora di andare in burnout su sta storonzata di Twitch così posso poi mettermi a fare board game design io sì come no ma io ho i giochi di ruolo o qui sotto non si vede ma ho tutta roba di Dungeons & Dragons ho scritto ho scritto mondi ho scritto ho fatto il Dungeon Master per 15 anni ho scritto tantissime cose per cui a me piace piace creare quindi sì progettare un board game è un reato che mi sono nel cassetto penso che sia più difficile di un videogioco perché trovare una meccanica originale è meno spazio di manovra trovare una meccanica originale che sia longevo ben bilanciato penso che sia un lavoro veramente difficile e poi lì anche il discorso della presentazione diventa importante il mercato è veramente non voglio dire saturo perché è difficile dirlo però comunque c'è un'offerta pazzesca rispetto alla domanda sì tant'è che c'è un problema adesso ho molti amici in quest'ambito io vengo da l'epoca board game l'ho molto esplorata 2010-2017 ma molto esplorata però io ho forse 5 o 6 board game a cui ho fatto 50 partite oggi gli amici che vanno alle conferenze giocano a 5 giochi diversi la prossima evento che fai giochi altri 3 giochi diversi non c'è nessun gioco che fai un replay no no è vero è vero io no io voglio consumarlo finché non si spacca la scatola se no se gioco una volta un gioco io voglio avere mastery come dicevo nelle cose precedenti voglio esplorare la meccanica rigiocarci a decima partita sono bravo allora lì comincio a divertirmi a giocare al senso di sfida perché padroneggio le basi se ogni volta provo un gioco nuovo non so neanche che mosse che faccio vado a caso oh che bello bello sto gioco bei pezzi grafici andiamo a fare il prossimo gioco è interessante è interessante come scusami se ti interrompo come tutte le riflessioni che stiamo facendo fino adesso sono sul filo della intenzionalità che tu dicevi e della risorsa limitata per eccellenza che è il tempo cioè tutto quello di cui stiamo discutendo racconta nel tuo caso di una persona che cerca di camminare su quel filo con consapevolezza nel tentativo che credo sia anche il mio e quello di tantissimi altri di avere una gestione che possa essere al tempo stesso soddisfacente ma profonda mi piace molto questa cosa io non sopporto non sopporto chi non sopporto chi si annoia non sopporto chi perde tempo non sopporto chi perde tempo in maniera non intenzionale nel senso che perdere tempo intenzionalmente mi manca adesso vorrei mi sai che faccio un cazzo di pomeriggio mi guardo al soffitto tutto il tempo mi manca però però ad esempio non voglio dissare mio suocero dissa che siamo su twitch non lo so si annoia e guarda la televisione perché ti annoi porca troia dammi i tuoi cicli di clock ti posso installare un software così magari fai dei task visto il tuo tempo da buttare cazzo dammi direttamente il tempo dammi il tempo fallo tu ti do dei task e me li fai tu a me mi spiace non so nel senso persona squisita anzi penso che oggi arrivino qui per cui aiutare quindi ben vengano dicevamo no vai 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 no ricordo c'è un'altra cosa figa che volevo dire mi sono dimenticato mi sono dimenticato mi spiace spero di non avertela fatta uscire io e comunque cosa ti volevo dire Google parliamo di Google Milestone hai detto che è stato un trampolino sicuramente anche a livello curriculare tu hai avuto la fortuna di lavorare per Google in teoria un grandissimo generatore di libertà fonte di entrate importanti altissimo livello per quella che è la tua professione una delle tue professioni a questo punto raccontacelo raccontacelo proprio da questo punto di vista come come l'hai come l'hai vissuta questa esperienza che cosa ne hai tratto quali sono stati i calcoli perché penso che sia anche giusto dirlo che ti hanno fatto dire ora è il momento di uscire ha fatto quello che doveva fare per me delusioni rispetto a aspettative eventuali insomma raccontaci un pochino ok è lungo ma interrompi e fammi altre domande tu a un certo punto posso partire in tante direzioni l'esperienza di google l'ho documentato anche molto sul mio blog a suo tempo ho scritto anche dei post in cui racconto tutti gli aspetti negativi gli aspetti positivi l'entusiasmo iniziale il mio percorso mi ci ha portato adesso ho passato due anni quindi un po' comincio anche a dimenticare alcune cose ho passato due anni ho fatto mille altre cose in mezzo allora io sono andato in google sono entrato nel 2012 a novembre però in milestone ho finito i rapporti con milestone ad agosto 2010 quindi due anni prima in quei due anni inizialmente la storia del mollare milestone anche lì è stato un po' un rage quit del tipo a un certo punto si lavorava tutti i weekend tutti i weekend tutti e io per un po' ho detto sai che faccio adesso io il weekend non lavoro più proprio il crunch di cui si parla tantissimo sì ma crunch continuo cioè un crunch continuo perché si producono tre giochi l'anno poi si è scoperto che quello che era il general manager aveva dei bonus particolari per cui lui ci teneva a dire dobbiamo pubblicarlo adesso perché prendeva un pacco di soldi vabbè penso politiche normali non c'era nessuna fretta il publisher era ok anche andare più lentamente ma questo quindi c'era un crunch continuo gli ultimi sei mesi ho fatto io adesso il weekend non lavoro scegliere due weekend importanti quindi prima della submission non so se sai come funziona il processo di submission nei videogiochi cioè una fase in cui devi mandare il gioco alla Xbox alla Sony e fartelo approvare quindi lì in genere vuoi spingere ci sta però fare ogni weekend non è possibile quindi ho detto lascio più i weekend e lì poi dopo mi hanno leggermente cominciato a mobbizzare nonostante quello che facevo era lavoravo beh ero oggettivamente riconosciuto anche dal mio capo che facevo che facevo un ottimo lavoro ma il capo dei capi ha cominciato un po' a fare pressioni ha dato bonus a tutti celebrandoli a me non mi ha dato un bonus quell'anno per lanciare due videogiochi era usanza dare dei bonus sì 1500 euro quasi simbolici però era stato brutto tutti i giorni ho ricevuto il bonus e io no quindi ho fatto un po' un rage quit perché quella persona mi stava sulle balle però poi dopo ho collaborato con Mystone con altri modi ho fatto un corso di C++ però beh ad agosto 2010 ho finito con Mystone e in teoria ero un po' un barbone non avevo un piano ho mollato Mystone avevo firmato un contratto con Codemasters in UK e poi non ci sono andato ho deciso l'ultimo giorno prima gli ho detto no non c'ho voglia il giorno il cazzo del giorno prima avevo anche preso anche pagato un acconto per un appartamento a Southam prosciutto del sud e e poi no non c'ho voglia mi sono fidanzato non c'ho voglia di venire in sud che cazzo vengo lì è buio è freddo non c'ho voglia e quindi ero rimasto senza un'idea e da lì poi sono andate mille cose fighissime adesso non voglio da Google non ci arriviamo le mille cose fighissime tra cui il mio correlatore di desi dottorato che non ho finito al dottorato che però insegnava a Verona e aveva lanciato un master in videogame development mi ha detto tipo ah Giorgio perché non vieni qua a insegnare da noi ho fatto dei corsi a un master poi da quel master sono andate mille idee tipo aziende hanno chiesto delle partnership ho fatto dei corsi per aziende strapagato ho aperto una partita IVA per due anni ho lavorato come freelancer cercando di non superare le soglie dei minimi che però tipo verso settembre nel 2012 già ad aprile ho raggiunto la soglia era una figata dico ma io questa è la mia vita lavoravo tre giorni a settimana con tre aziende diverse facevo progetti di R&D insegnavo a Verona era una figata questa è la mia vita faccio il freelance tutta la cazzo di vita non voglio mai più avere un capo e poi Google mi ha assunto con uno stipendio doppio rispetto a quanto guadagnavo da freelance che era già il triplo di quello che guadagnavo in milestone che era il doppio di quello che prendevo come ricercatore tipo la legge di Moore raddoppiavo lo stipendio ogni anno e mezzo quindi dico vabbè a Google non gli dico di no cioè danno 10.000 euro al mese appena entro che fai? gli dici di no e quindi ho detto ok avevo detto che non volevo mai più un capo con Google accetto quindi entro in Google e ovviamente Google non era il luogo dei miei sogni già da quando stavo all'università che Google era il nulla ho visto morire alter vista ho visto ho visto nascere Google per me era proprio il posto dei sogni e i primi anni sono stati molto molto belli due anni e mezzo tre sono stati belli c'era era ancora la Google dal 2012 2015 che era molto engineering driven era guidata dagli ingegneri era un ambiente in cui il software engineer era un po' il centro del mondo quello che diceva l'ingegnere veniva poi usciva nel prodotto ok negli ultimi anni è un posto da product manager in cui gente in giacca e cravatta decide che fisce ordinare il prodotto e tu sei un po' un pezzo un ingranaggio detto questo quindi ok la scelta economica è stata passata facile mi hanno dato un pacco di soldi poi l'esperienza Google non ero mai mai lavorato all'estero quindi ho fatto ok ho 35 anni è l'ultimo penso sia l'ultima carta per uscire dall'Italia quindi è stato no brainer accettare si accetta Google i primi tre anni piacevole ho ottenuto anche una promozione sono entrato a livello 3 promosso a livello 4 è gamificato molto anche dentro infatti e stavo molte gamification c'erano i badge in te vinci dei badge se fai delle cose dei badge anche simpatici sblocchi dei trofei si se giri più uffici ti hanno il traveler badge quando aggiungi 5 uffici in cui il tuo badge è attimbrato oppure c'erano delle cose simpatici tipo se avevi fatto una change list che era tipo un poker un full come l'ultime 5 cifre e vinci dei badge era molto gamificato molto da nerd ma dentro io penso che perdevo giornate su MemeGen non so se conosci MemeGen era un generatore interno di meme e in cui c'erano tutti i meme interni si prendevano per culo i capi e c'era anche il live stream su MemeGen mentre Brin e Page facevano il loro spettacolo del venerdì sera e gente ti prendeva per culo in diretta streaming una roba tipo i commenti di Twitch se vogliamo una roba era molto bello andare a vedere vedere i capi così approcciabili i capi che sono super capi magari il capo in Miles non l'ho mai visto stava dentro una stanza chissà chi cazzo era in Google gente che era top 5 in classifica di ricchezza mondiale stavano raggiungendo ti interrompo solo per dire una cosa che tu racconti l'iniziativa come era il multiplayer da 8 moto in Superbike diciamo non ben vista diciamo così l'iniziativa personale by night per migliorare il gioco e mi ricordo che tu in quel video dici ecco una cosa che fatta Milestone ti danneggia di fatto a Google è una promozione un'iniziativa di questo genere quasi in Google io dico spesso che vedo la distribuzione di attitudine c'è un top 20% di persone che le vedi che stanno lì vedono un problema lo vanno a risolvere senza chiedere permesso in maniera molto permissionless molto proattiva e questo qui è una roba che vedi che vengono promosse ogni sei mesi anche perché il processo di promozione non è come magari in molte altre realtà italiane che il tuo capo ti promuove in Google ti promuove un comitato di gente che non ti conosce quindi tu devi ogni sei mesi fare il temino di quello che ho fatto in questi sei mesi certo e poi decidere se tu candidarti per promozione o non candidarti per promozione quindi se tu ti candidi per promozione devi portare molti video devi essere molto evidence based quindi dei link a delle pezze di codice che hai scritto tu dei link a documenti che tu hai scritto altre iniziative che hai fatto altre cose e se tu hai carica della tua carriera per cui se tu in quel temino ci puoi scrivere tanta roba il comitato poi dirà wow questo è livello 4 vuol diventare livello 5 cosa prevede la ladder a livello 5 come skill non è che è una roba molto rigorosa però è del tipo leadership deve aver mostrato di essere in grado di prendere un progetto arrivare fino a qua c'è una sorta di definizione di ogni livello e quindi se tu mostri tu dici guarda io sono già a livello 5 perché ho fatto questo questo e quest'altro il comitato ti dice ok promosso poi ho bocciato il tuo manager può fare appello è il tuo avvocato il tuo manager capito comunque si è triste è triste che sembri fantascienza però è diverso queste cose qua si mi hanno sempre stupito affascinato è ovvio che anche lì c'è qualche problema può esserci perché se lavori su progetti a passo impatto non ti conosce nessuno non ti vede nessuno quindi la gente cerca di andare su progetti ad alto impatto però hanno sempre detto questo non si sta mai a risolvere da solo se un tool nessuno ci vuol lavorare morirà per questo Google ammazza mille progetti perché quando uno dice sono ingegnere in Google Reader che l'azienda vedo che sono rimasti cinque ingegneri e lo molliamo tutti il progetto rimane vuoto e Google lo discontinua è più una questione di free market interno non c'è tipo l'impiegato statale che deve mantenere quel prodotto perché l'ha detto il Parlamento se a un certo punto storture e cose buone e cose brutte del sistema un po' più mi viene da dire che qui non ci sia stato un rage quit oppure sì un sì un po' sì no no non rage è stato più un apathy quit come lo vogliamo chiamare il mio percorso in Google è stato così tre anni e mezzo in Google Maps adesso non ho mani le date dopo la promozione in genere la gente che fa dopo la promozione cambia team viene promosso quindi spinge 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 fa progetti progetti viene promosso e poi fa un'altra avventura perché? perché se tu stai due tre anni a lavorare su un progetto e poi non raggiungi una promozione cambi team riparti un po' da capo quindi tu vuoi raggiungere il prossimo livello dei seniority nello stesso team in cui arrivi quindi immagina sì due tre anni tenure media da una promozione all'altra dopo i miei due anni promozione sono rimasto altri nove mesi un po' ho fatto un po' ho fatto un po' l'impiegato pubblico ho fatto adesso mi tiro un po' e mi imbarca per un po' poi ci penso in realtà Google Maps stava diventando da la cosa più figa che c'era in Google nel 2012 tutti amavano Google Maps ha una appetta qualsiasi non si è mai riuscito a monetizzarla come si deve quindi Google piano piano non dicendolo ma la depotenziava ok questo team da 100 diventa di 80 quindi voi 20 cercatevi un altro lavoro interno a Google brutale anche questo qua io ho visto team smantellati in cui Google ti dice il tuo team non esiste più adesso hai tre mesi per trovarti un altro team se no te ne vai a fanculo è così era l'unico modo l'unico pochi modi per uscire da Google è questo qua però è così tu infatti devi curare il tuo curriculum interno perché a un certo punto vuoi darsi che sei costretto a cercarti il lavoro interno e quindi non vuoi essere quello che metti i reni in barca il tuo team viene smantellato però non ti si piglia più nessuno fa parte anche questo qui del gioco cioè è un gioco meritocratico c'è anche questo certo quindi io ho un po' galleggiato altri nove mesi nel mio team Google Maps mentre quelli smart se ne andavano di qua di là il mio capo che ho adorato Pasquale un francese un fenomeno lui ha ammolato Google per altri motivi quindi ero rimasto da solo in un team che stava piano piano diventando merda e quindi un po' troppo in là ho deciso di facciamo un cambiamento e mi sono messo a fare un po' di ricerche a fare i colloqui a fare dei colloqui interni c'era una sorta di linkedin interno ho fatto i colloqui e sono finito in ho detto vediamo su un prodotto che penso abbia grande impatto su cui farò metterò le basi per il prossimo livello per la prossima promozione e sono finito in shopping search quality quindi ero nel ranking ero nell'algoritmo per un prodotto che era shopping shopping express in realtà però lì ho fatto l'errore più grande ho stato in shopping un altro anno e mezzo cercando di emergere da una carriera che stava piattendo e lì ho perso molte energie ero riuscito un po' a fare un mezzo passo passate dalla sufficienza al sette però c'era fino a nove per essere promossi per capirci e al sette però stavo qui non ci arrivo al nove quindi voglio altri un anno e mezzo ci vorrà mi sto sparando adesso mi licenzio ma non mi sono licenziato ho cambiato ancora due volte ho cambiato ma ormai ero un po' bollito ti voglio chiedere questo quanto l'aspetto delle entrate economiche ha prolungato la tua permanenza ti farei vedere i miei forse dovrei cercarli non so qui facevo dei countdown ogni tanto a ogni settembre dal 2017 18 dico arrivo a gennaio che pagano il bonus e poi me ne vado a fanculo però poi che succedeva magari verso novembre facevo due settimane di lavoro interessante ma c'era però aspetta aspetta però poi dopo così poi mi dicevo no dai cambiamo team magari cambiando team mi dono ancora una possibilità cambio team l'entusiasmo è morto diciamo che mi sono comunque disentusiasmato ho scritto pochissimo codice negli ultimi tre anni in google ho fatto poca ingegneria mi sentivo anche che stavo rimbecillendo cioè le mie skill erano calate io ho perso molte skill lavorando in google incredibile però probabilmente ho acquisito molta più visione ampia cioè adesso saprei magari sono diventato non lo so ma sono diventato più un manager sono diventato più uno che sa vedere in ampiezza tantissimo sa subito capire se quella è una cazzata o quella è una cosa giusta però di mio come tecnico mi sono sempre considerato uno che vuole stare lì e studiare sul codice scrivere codice sono un topo da laboratorio e in google l'ho persa questa mia percezione di me stesso come sei tornato come ti sentivi guarda questa è un po' la classica domanda da aneddoto che si fa il giorno dopo che hai chiuso un'esperienza come questa che emozione era voglio dire non è da tutti vivere un'esperienza come quella non è da tutti decidere di interromperla te la racconto te la racconto bene perché mi piace non l'ho mai raccontato anche questo momento anche perché non è un momento singolo ho avuto vari momenti è il momento in cui ok adesso mi vado a licenziare il 23 26 marzo 2019 cioè adesso vado lì e cago in testa al mio manager che era pure un po' uno stronzetto in youtube però vado lì e in teoria avevo un dialogo aperto con un sistema interno che si chiama EAP Employee Assistance Program e ti dice se tu ti senti in difficoltà ti diamo un supporto psicologico quindi è un supporto di psicologo non di google ma pagato da google che però non ha nessuna relazione con google assolutamente e quindi vado scrivo al tizio e faccio guarda mi sto a licenziare no vieni qua da noi sono andato nel loro ufficio ha fatto tu sei in burnout stai un mese a casa cioè ti fai un medico in mano faccio ah quindi non vado in ufficio no sono andato in ufficio lo stesso ho detto a mio mese ho fatto guarda manager io sto a casa un mese ciao e lì già il giorno dopo stavo tipo a casa e dico oggi non vado al lavoro sto in malattia sono un malato cazzo sto in malattia sono un fallito sono finito sono un rottame è stato triste tipo ho portato la copia mia moglie e mia figlia a uno spielgruppe che sono i gruppi di gioco con altri bambini ero l'unico maschio c'erano cinque mamme la svizzera è ancora molto molto perché eri a Zurigo dico bene sono a Zurigo sì mi sentivo mi scopi sono tornato in Italia adesso no 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 non ancora non lo so è complicato e quindi stavo in questo gruppo con cinque mamme e io dico madonna che fallimento sono finito però dopo un po' ho cominciato a provarci il gusto e dico ok perfetto è durata sei mesi sono sei mesi in burnout sono stato sono un percorso lungo in realtà dicevo vabbè io sto in burnout finché mi pagano la malattia appena mi dicono di tornare al lavoro mi licenzi perché non mi frega un cazzo va bene così intanto intanto studio faccio altro mi recupero in realtà bloggo ho bloggato con un cavallo quindi la cosa bella è che io andavo andavo in ufficio andavo in ufficio in un altro building a mangiare gratis a fare palestra a consumare i punti massaggio che sono i massaggi e livellavi la forza fisica sì e poi andavo mi cerchia le meeting room e stavo lì e bloggavo tutto il tempo e andavo in un altro building il building dei devops degli SRE dopo tre mesi ero ancora dico beh adesso finché quando mi diranno tra un po' mi diranno il tizio mi dirà che devo tornare a lavorare no perché andavo con lui gli incontri diceva no ancora una merda ok ancora un altro mese di malattia ah beh dai questo mi sto vergognando però poi dopo che succede stando in quel building con gli site della BD engineer accade che comunque bloggo comincia a crescere il mio blog molti in google mi conoscevano facevo i meeting avevo il calendario più pieno di meeting quando stavo in malattia con google dovevano parlare con me confessarsi che erano anche loro in burnout ho conosciuto 50 googler nella mia condizione quindi bloggavo bloggavo che ero in malattia che stavo in difficoltà sotto pseudonimo ma era un pseudonimo cioè tutti mi conoscono tutti lo sappiano però io il mio manager stesso lo sappiamo e quindi comincio a conoscere gente e qualcuno le fa ma perché non provi un cambio di ruolo non più software engineer prova site della BD engineer sono quelli sono quelli che tengono in pieni servizi sono quelli che riparano i problemi se va giù un servizio è un po' come sei un chirurgo vai a lavorare nel pronto soccorso ti arriva gente senza un braccio gente con tre gambe devi curarne uno mentre stai cucendo uno arriva un altro che sta per morire e dici mi spiace ti lascio il cuore aperto è più grave e qui ho fatto guarda ragazzi no lasciatemi licenziare però poi passava il tempo e ho detto ma sai che c'è forse potrebbe essere per me perché di là soffrivo apatia andiamo in un ambiente che magari mi stressa poi ho detto ma chi è che mi si prende mi presento a un manager gli dico guarda sono ancora un livello 4 ho cambiato due team non ho avuto la promozione al 5 ci si aspetta dopo 5 anni che stai lì dopo 6 anni e sono pure stato in malattia ma chi mi si prende e invece no due o tre team e ho detto no vieni qua figo mi piace comunque non ho mai avuto performance sotto ho avuto performance buone e quindi ho trovato due manager fino a scelto un team e ho detto proviamo questa cosa di site della video engineering quindi dopo 5 mesi e mezzo dal dottore gli dico no voglio tornare a lavorare ma perché l'ho fatto poi mi sono detto senti era tipo ottobre fine settembre dico io torno lì fra tre mesi a dicembre arriva la tredicesima vestono pure 30 mila dollari di stocks a gennaio c'è il bonus di fine anno che se non sto al 31 gennaio lì non me lo danno o alle brutte faccio questi altri quattro mesi più gli altri 120 mila dollari in quattro mesi e me ne vado a affanculo cioè male non fa male non fa non è un brutto andare a affanculo però tipo torno al lavoro al day 3 che mi sono detto ho fatto un grafico lo vorrei trovare forse non voglio perdere tempo ho detto facciamo così adesso ogni giorno metto un emoticon per come va la giornata faccina sorridente alla terza faccina triste e anche mia moglie fa Giorgio non farlo perché so che poi dopo non tornare in Google non è per te alla terza faccina triste mi licenzio al quarto giorno che stavo lì non c'è le faccine triste e quindi ho detto faccio così faccio l'ultimo viaggio in California l'ultimo viaggio a New York scroccati e poi do la licenza sono una merda cioè gli ultimi anni non ne vado molto orgoglioso quindi chi mi idolatra ragazzi sono stato anche una merda in Google e quindi il terzo giorno è stato fantastico il terzo giorno che stavo in site dell'albidia engineering c'è un va giù tutto io stavo in Google Cloud stavo in PubSub che è un servizio di messaggistica non messaggistica ok servizio di scambio di dati che tra l'altro usa Spotify usa Snapchat varie aziende esterne e abbiamo un come si chiama un outbreak mostruoso cioè tipo quelli di Spotify ci scrivono ehi non arrivano le notifiche non funzionano le cose e quindi siamo chiusi in una che si chiama una war room siamo otto ore chiusi in una stanza a capire cosa sta succedendo eravamo tutto il nostro team di cui tre super senior e io e altri due junior che tipo si guardavano io mi consideravo junior ho appena cambiato ruolo ero un appena arruolato nella regione straniera e quindi sto lì e dico prima ora cercavo un po' di capire cosa stavano dicendo poi sono tipo ho fatto zone out e dico io fino a tre giorni fa stavo in malattia e ora sei in guerra ora sto in guerra cioè sto proprio letteralmente in guerra abbiamo mangiato a Shift chi usciva prendeva il cibo tornava lì e mangiavamo là davanti a fare cosa non è che sto contribuendo e gli ho detto ok perfetto io e Google abbiamo finito di lavorare assieme adesso aspetto di arrivare alle prossime stocks prossimo bonus e poi me ne vado e così è stato il giorno che ho firmato la lettera delle dimissioni è stato doloroso ho pianto davvero? sì ho pianto poi anche il giorno alla mezzanotte dell'ultimo del giorno che sono uscito ho pianto ti posso chiedere cosa è che ti ha fatto piangere? non lo so non lo so la consapevolezza di aver fallito completamente nella vita ma pensa ma io ti giuro arrivi in Google ma come lo racconti? hai ragione hai ragione papà sai mi sto licenziando e mio padre è tipo sbianca ma come stai in cazzo in Google quando esco nella borgata la gente dice tu sei il padre di quello che sta in Google e io dico ragazzi ma è una merda cioè sta roba è una merda scusami da un punto di vista diciamo narrativo invece mi sarei aspettato ho aperto la finestra c'era il sole e mi ero tolto il peso dalle spalle in prospettiva le dico sì in realtà ancora nutro sentimenti contrastanti chissà avessi fatto X non avessi fatto Y diciamo che avessi fatto altri 5 anni in Google adesso ero ancora più libero però sento gente che se n'è andata tutti quelli che conoscono ne stanno andando e poi la cosa bella è che sono uscito lì a fine marzo quando tipo il giorno prima avevano chiuso gli uffici non c'è più Google mi immaginavo pensa adesso che mi licenzio gli consegno il badge e poi cammino lì vicino e vedo gente che mangia cibo gratis e va in palestra in questo posto spettacolare e a me non è più concesso non sono più degno di star lì dentro invece no per fortuna sono morti tutti per fortuna gli uffici non ci stanno normalmente non ci stanno più e quindi così però volevo finire di raccontarti la parte di quindi il momento di bandare letterali di missioni patema d'animo vado dal mio manager Dennis io guarda e così fa ah cavolo Giorgio wow vorrei avere il coraggio che hai tu perché non ce la faccio più manco io però tu grande che figata ma so che tu hai questo blog cavolo ma mi devi spiegare come si investe ti metto in contatto con un mio amico che anche lui ha delle idee imprenditoriali cioè il mio manager poi ha sempre detto quando vuoi tornare la porta è sempre aperta ma non ho fatto un cazzo non ho fatto niente perché perché mi vuoi perché mi vuoi ancora cioè come se tu molli una ragazza che non ti piace più ma lei è gentile dice no dai torna manda che si vede che non stava male con te la ragazza probabilmente sì probabilmente sì si vede che poi non lavoravi qualcosa comunque ho fatto il tuo lavoro doveva avere un valore eccezionale poi vabbè questo tu non lo dici ma secondo me è palese ti voglio se vuoi proseguire con questa parte l'ultima parte ok quindi lettera di emissioni mandata tipo il 10 febbraio con deadline 31 marzo perché devi un mese intero di preavviso più il mese in corso così le regole in Svizzera e quindi il 31 marzo è l'ultimo giorno di lavoro e il 31 marzo del tipo riconsegno la hardware in realtà no perché ho chiuso gli uffici mi sembra qualche giorno prima quello dovevo spedire e stavo a mezzanotte del 31 marzo a vedere vediamo se ancora ho accesso alla mail e poi l'ora dopo la mezzanotte i servizi piano piano non avevo più accesso un po' come mi sentivo tipo in The Eternal Sunshine of the Spotless Mind di Jim Carrey non so se conosci il film lo conosco non l'ho ancora visto pensate che spogliarsi potresti fare ok piano piano ricordo che tipo mi crollava un servizio però potevo ancora fare le code review quindi vado su una code review che cosa faccio ciao ragazzi sono un ex ma pensi ma è una cosa sentimentale proprio ma sì ho pianto come un bambino a luna e un quarto di notte a luna e un quarto di notte quando ormai non avevo piaciuto a niente ero ormai un ex googler ho pianto come un bambino il giorno dopo non mi regalavi un cazzo il giorno dopo interessantissimo zero zero vabbè sono un po' sono un po' sono un po' emotivo sei molto italiano quindi ascolta però una piccola marcia indietro perché sennò rischiamo vai vai scusa scusa che sono un asciugone galattico no no è solo che non voglio dimenticare non voglio schippare il capitolo youtube visto che siamo youtuber voglio certo voglio voglio che mi apri un po' una finestra sul fatto che tu hai lavorato come dice la tua la tua maglietta no da il nome del team precedente poi rinominato in youtube creator commerce quelli che adesso fanno sì e come è stata la tua esperienza come è stato vedere youtube da quel punto di vista scusami solo questo e rispetto a quello quindi come vedi youtube adesso se se ha un'influenza veramente ha troppa roba da dire mi do fastidio dilla tutta non ti preoccupare che io sono solo contento di ascoltarti allora intanto ho scelto youtube perché la scelta di shopping precedente era stata fatta sul cerchiamo un team con un largo impatto per fare carriera infatti in shopping tipo il capo di shopping lato dev era tipo livello 9 era un fenomeno il suo sotto era livello tutti livellati altissimi entriamo lì ma non ce l'ho fatta per motivi che il posto era ottimo per fare carriera avevano bonus ogni giorno perché c'erano ero shopping nel reparto ads ogni lancio che facevi ti davano un bonus quindi soldi a cannone però era insostenibile emotivamente adesso voglio andare su un prodotto che io uso e amo e voglio vedere se mi appassiono a dire cazzo lavoro dietro alle quinte di un prodotto che uso e amo però youtube dentro google era ancora ma l'abbia sempre stato un'altra azienda youtube è stata acquisita e aveva ancora delle logiche e delle meccaniche sue anche probabilità di sviluppo codice era ancora il monolite in python usava i servizi di arpissima diversamente in maniera asincrona e non asincrona insomma c'era era proprio anche il codice era ancora un cadaverone era in fase di riscrittura buona parte di pezzi c'era il processo outer tube di portare buona parte dei servizi in c++ e così via però era comunque uno dei prodotti ma pensa scusami se ti interrompo da profanissimissimo mi stai parlando di un di una resuscitazione che consiste nel passare da python a c++ che un profano direbbe ma non dovrebbe essere il contrario invece no no beh c'è efficienza youtube youtube e internet se tu prendi un cavo di fibra ottica e lo tagli a metà e lo guardi il 45% dei byte che passano è youtube youtube occupa tipo il 40% di internet come traffico dati quindi se si fa sul serio si va su c++ tu mi insegni sì cioè comunque è una roba grossa come quello quantità e i back end devono essere efficienti non gestire avevo alcuni servizi che raggiungevano le 100 million qps query per second alcuni servizi di autenticazione di acl e cose del genere diciamo che era molto inefficiente non scalava ha scalato tanto perché Google ci ha messo risorse no cioè duplicò i servizi su un miliardo di data center diversi quindi qualunque servizio sta su però andava ottimizzato andava rifatte buone parti e quindi era in corso questo processo in più poi non è ti puoi fermare e non fare nuove feature devi comunque fare nuove feature sempre e sono entrato nel mondo a Zurigo c'era quasi tutto il mondo creator support quindi c'era il team di il team dove stavo c'era tutto il team di content ID matching content ID claiming quelli che ti fanno il claiming automatico del fatto che un video è copiato un audio è copiato ho fatto anche un colloquio con loro ma non mi piaceva il manager era un po' famoso per essere un po' uno stronzetto ma ho fatto poi il colloquio in realtà non l'ho fatto anche un colloquio perché il mio manager in YouTube il primo manager che ho avuto in YouTube che poi ogni sei mesi cambi manager era uno dei manager che aveva avuto in Maps che si era spostato in YouTube ho fatto Giorgio vieni da noi figato ok vengo e sono entrato nel team di quello che era in maniera larga chiamato Alternative Monetization for Creators che vuol dire c'era il team di channel membership se tu conosci il tasto join non il tasto subscribe il tasto join la subscription per YouTube il patron di YouTube merchant quindi merchandise affiliate marketing ticket selling c'era un po' di effort e poi anche quello di YouTube for good che adesso non so come si chiama quello tipo di donazioni donazioni non a te ma tipo le missioni quelle umanitarie Mr. Beast quel team là eravamo una quarantina di ingegneri e un po' di di product manager e così via ecco YouTube è molto product manager driven quindi ti dicono cioè è più un'organizzazione italiana come vogliamo chiamarla una roba del tipo eri più un esecutore di ordini ogni due settimane c'è da fare lo sprint agile in cui sono questi task tu fai questi ti diamo gli ordini poi non so io in shopping a un certo punto mi ero un po' bollito ho per un po' chiesto di lavorare l'80% di lavorare 4 giorni a settimana approvato in 3 secondi e stipendio anche scalato ovviamente però per 6-7 mesi ho lavorato l'80% avevo chiesto lo stesso YouTube perché sei matto non l'ha fatto mai nessuno cioè era un'azienda molto più vecchio stamp ti chiedo questo scusami Giorgio prima hai parlato della diagnosi tra virgolette di burnout a questo punto di fatto è una diagnosi reale cioè tu puoi dire realmente è stato il burnout a buttarmi fuori ma siccome tu non sei uno che cazzeggia come si definisce come lo definirebbe una persona che ama darsi da fare uno dice beh a uno che ama darsi da fare più di dai da fare più è contento quindi tu mi stai chiaramente raccontando di un'esperienza che a un certo punto non ti sapeva più di niente io amo amo darmi da fare ma devo sentire quello che sto facendo è allineato con quello che voglio fare cioè in google tu se vuoi hai da far tantissimo ma su cose che non ritenevo avessero valore cioè non ritene ok potevo scannarmi per capire questa cazzo di parte di codice non documentata chi l'ha scritta come si questa chiamata questa funzione non ritorna quello che mi aspetto l'ha scritta un team che sta a mountain view mandagli 15 mail non ti rispondono di notte per cui il giorno dopo hai 30 thread mentali aperti tantissima fatica e dolore però alla fine pure se unisco tutti i puntini ho cambiato colore a un bottone era non sono mai stato bravo a fare cose che non mi piacesse fare c'è gente che diceva lì otto ore lavora fa il suo lavoro lo considera lavoro e basta riesce a fare delle cose e via io se faccio cose che non mi piacciono faccio la qualità il mio output ha una qualità molto bassa se invece mi dici vai Giorgio decidi tu cosa fare lavoro 500 ore al giorno quindi quindi per me il problema del burnout è stato molto apatia non è stato un burnout del tipo lavoro troppo adesso potrei andare un burnout diametralmente opposto potrei andare nel burnout in cui anche la notte sto pensando a che clip estrarre da questo video mentre in google ricordo che andavo in ufficio tardi mi nascondevo andavo in palestra stavo nascosto delle volte la mattina mi alzavo e dico adesso non ci vado non ci vado piuttosto da sbattere a un tram e così vado in ospedale e mi diverto di più è interessantissima questa cosa è strano da raccontare sai perché secondo me scusami se ti interno sai perché secondo me è una cosa molto interessante perché ha molto a che vedere con la collocazione del talento cioè una persona di talento malposta per così dire diventa comunque una persona tu hai detto mi nascondevo guarda che è fondamentale diventa una persona che si nasconde tra virgolette che è sprecata sprecata e questo può succedere anche in aziende di altissimo livello questa è una conseguenza della grandissima fallacia della commoditizzazione di questo tipo di lavori cioè gli ingegneri non sono delle commodity non è poi dire prendo tre ingegneri forse anche un libro The Mythical Man Hour è un po' vecchio però cioè il fatto che il lavoro creativo non è commoditizzabile non puoi dire metto tre ingegneri riduco il lavoro in un terzo se c'è una bad allocation delle risorse stai buttando talento è vero è interessante Amerela guarda un'azienda che mi dice la carta bianca va in giro e migliora le cose però nessuno nessun product manager può metterlo in qualche time sheet capito non è spiegabile la domanda la domanda è letteralmente una conseguenza di quello che hai detto mi viene da dire che tu hai maturato una grossa consapevolezza di come dovrebbe o non dovrebbe funzionare un'azienda e so già che tu non sei stato finora interessato a sviluppare tu una tua azienda quello che quello che viene da dire è tu potresti mettere in pratica la tua critica dell'organizzazione aziendale e realizzare qualche cosa che funziona diversamente magari scoprirei che come la democrazia è brutta ma è la migliore delle soluzioni che abbiamo potarsi che scoprirei ragazzi purtroppo è complicato fare cose diversamente potarsi è molto interessante anche il fatto che comunque hai sempre parlato dell'ingegnere nel tuo caso ingegnere informatico come di una figura creativa questo è veramente io mi reputo cioè mi reputo un creativo che ha fatto informatica che ha fatto teatro che ha fatto qualunque cosa ha fatto nella vita ho scritto tanto ho prodotto cose la creatività è sempre stata al centro io dico sempre che la base gli ingredienti base il protone e il neutrone della mia vita dell'elettrone sono creatività e curiosità cioè con curiosità esplori e con creatività exploiti crei cioè exploitation exploitation vabbè qual è stata la fase della tua vita in cui hai fatto teatro ok nasce nel lontano 2002 stavo a un anno e mezzo a San Valentino 2002 sono 20 anni esatti è stato ero studente universitario a me dispiace perché tipo anche alle scuole elementari e media avevo delle maestre illuminate ho fatto sempre delle recite ero pure diciamo abbastanza portato poi però gli anni delle scuole superiori per me io fossi me renderei il teatro obbligatorio alle scuole superiori perché è quella fase in cui la gente forma un po' più di non lo so di attitudini di social accettazione sociale e lì se fai non so teatro non lo so per me è qualcosa che esplorerei questo percorso qui però la fase lì è schippata completamente e all'università diciamo che lo faccio perché volevo vi ricordo che mi è sempre piaciuto esprimermi in questo modo qui e facevo già ho fatto anche una stagione di animazione a villaggi vacanze animatore animatore turistico per due due stagioni ma esperienze drammatiche le racconte le racconte se vuole esperienze drammatiche però non so se eri già fidanzato con con le tue attuali compagnie però mi è semis io ho avuto non con le tue attuali compagnie ma sono l'unico che non ha trombato per niente ma cosa stai dicendo cosa l'hai fatto a fare ma questo è un fallimento e ero pure ero fisicato ero un figo dalla madonna adesso faccio sono il grasso prima esperienza l'ho fatta in un villaggio in cui era tipo un 5 stelle dico un figato solo vecchi e bambini fino a 13 anni e dai 55 in su e il gruppo degli animatori erano tutti quanti sedicenni a cui era stato detto che dovevi dire che avevi 18 anni poi io ero studente universitario arrivo a fare animazione tipo a luglio quindi ormai la stagione era già mezza avviata quindi tutti gli spettacoli erano già setappati tutti gli animatori fanno già mucchiare tutti trombavano tra di loro io ero ragazzi c'è figa qui ma non si può dire figa si deve sarebbe stato un paradiso con un gerontofilo come dice Al Al è nel mio CDA e quindi esperienze di animazione però andavo in scena a fare spettacoli diciamo quelli serali e mi divertivo con un pazzo la gente sbucciava le mani ho sempre avuto un po' un'espressione da facciare piacevole e qui ho fatto voglio far teatro voglio studiarlo bene su Stanislas di merda addirittura così proprio volevo volevo ho detto cosa faccio voglio non so mi piaceva immaginarmi fare dei monologhi perché scrivevo già delle cose volevo fare dei monologhi per gli amici metto lì scrivo un monologo e lo porto in scena per dieci persone per i miei amici non l'ho ancora mai fatto quindi nelle prossime vite quante ne abbiamo già sentito tre quattro vite abbiamo già segnato l'autore di board games lo sviluppatore indipendente di videogiochi quindi faccio teatro però ecco sono già vecchio parlo già come un vecchio quando sarò vecchio pensai che due palle farò così i miei nipoti però insomma dai senti dico l'ovvietà dico l'ovvietà mimica facciale capacità di esprimerti con il pubblico ovviamente questo ti aiuta è quello che fai aiutato al teatro fare teatro non so Warren Buffett dice che cito spesso Warren Buffett che una delle skill più utili è il public speaking quindi per me per me non so il teatro mi ha aiutato a esprimermi meglio a gestire il co a andare in scena e non essere imbarazzato vengo con te in live sono spigliato qualunque cosa faccio sono spigliato dovessi andare in televisione dovessi fare qualcosa in cui si richiede hai 5 minuti per buttarti davanti a 200 persone e fare qualcosa so che mi difendo non è più un problema non è più l'ansia da evento certo odio magari non so chiama Bill Gates veramente non per far la gag che ho detto prima e può darsi avere problemi però è una skill interessante è una qualità parlavamo di abolire il classico eccetera tu giustamente dicevi dovrebbe essere obbligatorio il teatro è una cosa che mi fa pensare a quando si parlava delle materie obbligatorie non obbligatorie e ad esempio Boldrin diceva che per lui una materia da togliere sarebbe stata l'educazione fisica e io che sono d'accordo con gran parte delle sue tesi ho pensato invece a quanto per me è stato importante da persona zero sportiva avere quelle due ore settimanali di educazione fisica è molto interessante il discorso che fai del rapportarsi con il pubblico acquisire fiducia anche da un punto di vista fisico mi piace mi piace questa cosa tu hai in mente da un punto di vista ti voglio fare una domanda abbiamo parlato di creatività tu hai un'idea di come questo è un pochino pesantona da umanista tu hai un'idea di un lascito personale cioè quando tu lavori ai tuoi progetti o immagini i tuoi progetti futuri o comunque insomma pensi alle cose che potresti fare che ti potrebbero incuriosire ragioni mai nell'ottica di a un certo punto produrre una un prodotto culturale di qualunque tipo esso sia che sia un un vero lascito di me stesso è una cosa che ti ha mai ti ha mai ispirato ovviamente ovviamente sì cioè ovviamente sì anche qui partirebbe un altro discorsone che due palle che sono sono noioso odio le risposte brevi il problema qual è c'è un bellissimo articolo di Venkatesh Rao non so te lo conosci Ribbon Farm che dice immortality begins at 40 che a 40 comincia l'immortale a quella fase a 39 anni sono contentissimo dai dai che stai arrivando in realtà lo lega un po' forse più anche a quando tu ti crei valore per te stesso 40 è quella fase in cui forse lo lega più ad avere figli non ricordo se è senso che è quello lì però cominci a dire va bene ok perfetto io quello che devo farlo ho fatto adesso cerco di acquisire immortalità cerco di fare qualcosa che vada oltre ok i step sotto della piramide di Maslow sono già superati adesso che c'è on top c'è la self-actualization c'è anche la roba lì e quindi sì ovviamente io adesso quando penso a cosa fare mi dico ma fraccenti sulla mia lapide cosa ci scriveranno io infatti vorrei organizzare il mio funerale prima di morire perché il mio del culo il mio del culo non esserci potresti organizzare uno finto giù sopra a Sistra però poi la gente non sarebbe sincera quindi io sicuramente no ma uno finto che lo sai solo tu che è finto esatto io quando morirò non sarò morto ve lo dico subito spoiler quando diranno che sono morto spoiler starò da qualche parte infatti già voglio io te lo dico già metterò dei video schedulati schedulati l'ho detto prima io l'ho detto prima io l'ho detto prima io io sono anni che la dicono ragazzi sono morto una settimana come va la vita qui cioè dai cazzo lo devo fare ma guarda guarda che questa cosa è fantastica Giorgio perché io ho pensato questa cosa qui ma l'hai pensata anche tu cioè tu fai un video in cui ragazzi se state vedendo questo video significa che sono morto tanto tu continui a rimandare o di qualche mese e prima o poi muori e il video esce ma è una cosa è come è come l'inactivity account manager di Google quindi in realtà lo faranno in realtà lo faccio anche alla mia famiglia tipo oh ragazzi ho schiattato i soldi stanno qui faccio un video del genere per aiutare la mia famiglia a dovesse schiattare figo figo a me poi piace fare questo humor sulla morte c'è una lapide come simbolo per cui tranquillo sì ma è bellissima questa cosa perché mi viene in mente che l'hai pensata tu l'ho pensata io l'avranno pensata altri a un certo punto su YouTube qualcuno lo farà inizieranno a saltare fuori video di gente che annuncia la sua morte ci sono troppe idee che secondo me sono obbliche che non vedo ancora in giro io ho iniziato a fare un attimo una caccia al tesoro con i video unlisted ho fatto due o tre video unlisted su YouTube con indizi per trovare il prossimo e quindi adesso vi dico cosa faccio voglio esplorare voglio farlo un po' di più fai tipo una sorta di percorso con false piste caccia al tesoro con i video di YouTube non lo so figo figo non lo so ho delle idee che sono un po' ovvie ma non le vedo ancora fatte scusami se ti ho distratto perché mi hai entusiasmato con la morte tua ma anche mia insomma sempre argomenti fantastici e invece ti diciamo l'idea l'ascito culturale un senso di ora devo veramente produrre quel qualcosa che sento che mi consegna l'immortalità insomma ti avevo interrotto assolutamente e in questo qua in questo qua l'incessantismo è una merda perché nessuno si ricorderà nessuno si ricorderà mai la tua live di oggi questa qui sì ovviamente questo è il nostro lascito per il futuro questo adesso mettila su YouTube posticipata che io e te siamo morti entrambi posticiparla possiamo quando siamo morti entrambi uscirà però sarebbe bello fare un video insieme e può uscire soltanto se siamo entrambi morti wow e potrebbe questo significa che potrebbe uscire uno di noi due è morto da 30 anni capito e uno finisce per chiedersi ma pensa quel tizio l'ha conosciuto 30 anni quante possibilità per la morte umana adesso in uno dei miei easter egg quando morirò dirò del tipo però devo ricordare mi canciaro se muori tu prima è il tipo oh Riccardo io sono morto spiegate a pubblicare il nostro video ma quanta roba si può tirar fuori ma secondo me non stiamo ancora vedendo queste cose perché si vede che gli youtuber non stanno ancora morendo sono ancora troppo giovani per morire e quando moriranno saranno talmente da boomer questa cosa qua che sarà cringe e non farà nessuno tristezza senti ti faccio la domanda più banale della vita ovviamente iperproduzione di contenuti quante fotografie vengono pubblicate da fotografi ogni giorno quante ore di live quante ore di video eccetera eccetera odio odio questo c'è un altro bellissimo articolo che ti consiglierei che si chiama the garden and the stream che parla appunto del è tutto un modo dei digital garden cioè concetto di produzione intesa come giardino e non come flusso lo stream è il presente è sempre il presente è il social network che tu produci un conto che muore il garden è tipo il wikipedia il prodotto che sta sempre su l'altro va lì un po' d'acqua alle piante quindi aggiorni un pezzo e a me piacerebbe un po' più entrare in un mondo in cui il mio sito il mio luogo online è un giardino in cui tu vieni e vedi alcune parti le aggiorno alcune cose nuove nascono ma non c'è un continuo presente che domani diventa passato ma c'è un luogo che cresce è un paradigma un po' meno da dopamine addicted però secondo me che può essere un po' più visto come qualcosa di evergreen di un lascito qualcosa del genere però in generale sì il concetto che finché continui a essere presente ogni giorno difficilmente lasci a noi non è che adoriamo Dante perché stava ogni giorno su Twitch Dante ha detto faccio la Divina Comedia e ciao oggi non è sostenibile economicamente non è sostenibile questo modello ma neanche in queste piattaforme chi decide di fare l'eventone non fa niente per tre mesi e poi fa l'eventone l'eventone è divorato come lo stream nel senso se tu dici faccio come Michelangelo ragazzi sparisco tre anni che devo fare il David esce il David ma il David non esisti più è brutto è un po' brutto sai che cosa pensavo adesso vado veramente ruota libra a proposito dello sviluppo di videogiochi pensavo che mi sembra ma magari è solo una deformazione dal fatto che sono un appassionato mi sembra che nella nostra cultura si stia dando oggi molta immortalità alle opere videoludiche che esista ancora nell'ambito videoludico l'istituzione del cult c'è molto tra una generazione che può essere nostra coetanea o più giovane si fanno incredibilmente tantissimi discorsi di preservazione di che tipo mi sono perso qualcosa ti parlo ad esempio del fatto che adesso Nintendo stava per chiudere lo shop online del Nintendo 3DS per cui tantissimi giochi che potevano essere comprati lì spariranno e quindi c'è un grande discorso online intorno al fatto che devono essere preservati eccetera mi viene spesso da pensare che sia più per me anche della sua natura digitale che sia più forse lì che alcuni autori lasciano le loro magari i loro bauli di Pessoa che ha fatto il contabile tutta la vita scriveva per un irrilevante fino a un certo punto rivista letteraria portoghese poi un bel giorno qualcuno ha trovato il baule con dentro opere tra le più rilevanti mi viene da pensare che se è nel digitale mi viene da dire inevitabilmente che andremo a lasciare qualche cosa di un pochino più fisso diciamo così rispetto allo stream che è sia a termine legato allo streaming che metafora della produzione di contenuti di oggi potrebbe forse essere qualche cosa di videoludico è un'idea che ogni tanto mi passa per la testa artistico sì perché ci sono mi è capitato di recente probabilmente tu non sei più dentro al discorso e lo capisco mi è capitato di recente di giocare ad esempio a un titolo come Kentucky Route Zero che è un gioco per pc creato da degli accademici americani se qualcuno in chat lo saprà meglio di me creato da tre accademici di Chicago adesso non ricordo comunque è una sorta te la faccio molto banale è una sorta di Ulisse di Joyce videoludico un'opera culturalmente profondissima mostruosa una cosa stupenda e quando l'ho giocata ho proprio avuto l'impressione l'impatto della nuova cultura di un prodotto culturale per una nuova epoca mi ha colpito tantissimo questa cosa e quindi non lo so faccio difficoltà a immaginare quando penso a nuova cultura nuova epoca penso più a mezzi che a contenuti no? magari immagino un prodotto multimediale videoludico per una nuova era immagino una roba tipo un visore una roba più metaversosa sì 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 immagino un qualcosa più connesso con TikTok tu giochi e poi ti parte un visore non lo so qualcosa che più sta al mezzo mentre i contenuti bene o male non lo so forse vanno un po' dal boomer cioè gli archi narrativi possibili li abbiamo un po' esplorati non lo so sì non hai tutti i torni potrei dire una cavolata mostruosa però sai cosa penso che oggi il medium il medium letterario ad esempio sia oltre che per certi versi estremamente esaurito estremamente consunto molto poco conosciuto sfruttato condiviso non mi sembra che la comunicazione pubblica online giri intorno alla apertura mi sembrano testi che fanno molta fatica oggi ad essere intendi prodotti nuovi oppure intendi anche sia i classici che le nuove uscite non mi sembra che oggi sia scrivere il grande romanzo faccio per dire il modo per aggiungere al discorso pubblico un'opera culturale rilevante indipendentemente dal suo contenuto ok allora forse ho capito cosa intendi la produzione di una serie televisiva di qualità profonda si può assolutamente contenuti di quel tipo lì più che film che sono sempre anche lì anche per me i film finiscono nello stream c'è il grandissimo hype per l'uscita di qualcosa finisce ce la dimentichiamo c'è poi il discorso dell'autorialità mi ricordo un'intervista che fece Enrico Ghezzi a Umberto Eco siccome Eco era amicone di Antonioni immaginavi che l'avrei citato presumo e gli chiese insomma Umberto ma perché non fai un film e lui disse in buona sostanza ma insomma è una grandissima rottura di coglioni deve avere a che fare con un sacco di gente gestire un progetto complessissimo scrivo un romanzo faccio tutto io quindi è il discorso che facevamo prima hai citato il metaverso sei un ottimista parlacene da uno che sa di cosa parla ho fatto ok ho fatto una sorta di ho fatto una live un po' lunghetta qualche mese fa quando più o meno uscì il video di Zuckerberg che annunciava quanti sono passati? tre mesi? due, tre, quattro mesi? forse anche di più beh no un po' mi allucina un po' mi disturba credo che sia un vero uno spartiacque il metaverso mi dice sei vecchio fine ogni altra cosa che ho visto nella vita che vedo nei giovani penso di poterci arrivare a capirla il metaverso mi sta dicendo questo è il momento in cui diventi ufficialmente vecchio perché non lo capisci e in effetti non riesco ad apprezzarlo più di tanto riesco a capire per quale motivo possa essere affascinante come prodotto intero poi alcune singole parti magari possono essere interessanti un'esperienza di videogioco ho un caro amico qua che abita a 500 metri da me che lavora in Oculus qui a Zurico e un altro amico che lavora in Oculus lo vedo un po' di meno ma quest'altro lo vedo di più perché giochiamo assieme a Pandemic Legacy Season 2 quindi lui lavora in Oculus ovviamente non può raccontarmi tutto però intanto vedo hardware gioco i suoi giochi facendo un po' di cose e quindi alcune esperienze sono interessanti però a mio avviso l'hardware al momento è ancora molto pesante però è un segreto di Puccinella che sta pensando Facebook di soluzioni di potenti a contarlo qualcosa che sia meno più facile da indossare e meno pesante tu non puoi fare fitness gamificato con sto coso in testa totalmente d'accordo alcuni aspetti per me è proprio pensare il fitness gamificato che ciò fai cucitato contro un robottone unlock il terzo livello tipo compra la skin per quando vai a correre compri i pantaloncini del Metaverse non lo so alcune cose non le però mi sembra mi sembra che vada da un punto di vista dell'esperienza dell'utente mi sembra che vada nella direzione opposta di un TikTok cioè se io con TikTok devo appena appoggiare mollemente il braccio e scrollare uno schermo e quindi oltre al fatto che è una distrazione costante quindi posso veramente andare in una situazione di semilobotomia e perdita di coniezione del tempo eccetera mi sembra che indossare un visore mettermi a muovermi eccetera è la cosa che fai nell'entusiasmo ma che prende la polvere questa frizione ci sta ok però poi non so tu avrai letto lì di Player One io non sono un grande fan di quel libro ti dico la verità io ben bene è stato simpatica è stata simpatica narrativa però ovviamente il mondo per me è la distopia cioè quel mondo dico madonna che è un mondo di merda beh certo non era neanche velata cioè nel senso che era un mondo distopico un mondo in cui il mondo reale va a puttane tutti quanti si accontentano di vivere un mondo finto però però magari alcuni aspetti di quel mondo finto per alcuni sono migliori del mondo vero chi ha problemi nel mondo vero non lo so capisco come un ventenne possa essere entusiasta io non riesco a vederne forse qualche aspetto lavorativo oppure di presenza potrei giocare di più a board games forse se facessi nel metaverso perché i miei amici sono sparpagliati nel mondo o ci vediamo stiamo nella stessa stanza virtualmente col gioco modellato là sopra e giochiamo a Puerto Rico c'è già board game arena c'è già board game arena a me la cosa che affascina dell'idea del metaverso ma qui ti parlo di un ready player one di Spielberg la cosa che mi affascina è una realizzazione così fisica totale di un'identità diversa dalla propria l'idea sì a me fa strano io non costruisco completamente quelle apparenze sulla base delle quali inevitabilmente vengo pregiudicato dalle altre persone e quindi mi emancipo del tutto da ciò che anche geneticamente posso avere ereditato quella cosa di per sé la trovo affascinante l'idea che le persone facciano entrare nella loro quotidianità tantissime ore al giorno qualche cosa di fisicamente dispendioso e un po' stronzo a me quello sembra proprio da un punto di vista delle prospettive di successo come dicevi giustamente tu la lente a contatto diventa necessaria per qualche modo sì sicuramente sicuramente a me è stata spaventa anche questa sorta di trasformarsi in avatar spaventa perché ti spaventa? mi immagino già ma tu sei entrati in una lobby di Fortnite di personaggi spamano non lo so sarà bene lì hai molta meno customizzazione di quella che mi aspetto avrà nel metaverso però non lo so sarà difficile interagire con uno che ha un nome con gli underscore dentro sarà difficile interagire con personaggi che hanno ecco quello che io che non hanno una accountability delle proiezioni non lo so una persona fisica con una faccia con qualcosa è una persona alla quale si può rendere conto fra tre mesi di cosa ha detto fatto pensato stato di cosa è stato ha una sorta di non so come chiamarla ma reputazione da difendere un avatar nel metaverso rischia che è l'interazione quella proprio più animalesca che hai nelle chat anonime non lo so ho paura il discorso dell'accountability che fai tu mi fa pensare in realtà tantissimo in realtà come è già è già una cosa questo non avere quell'accountability è già una cosa che molti di noi pretendono come se fosse un diritto qualche cosa di dovuto che internet ci dà un uso però guarda reddit funziona reddit che più o meno ha la stessa meccanica però nasce con altri obiettivi ma reddit funziona nonostante è un luogo in cui tu se vuoi puoi farti un throw away e fare il scorreggiare c'è un meccanismo sociale di di respulsione di repulsione no? si 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 però immagino non so che fai fai un metaverso con anche gente che ha il rating sopra tipo nose dive di black mirror e quindi hai i punti e quindi sei meno accettato in certi mondi e poi nel metaverso nel metaverso se sei povero se sei povero devi andare a farmare per quelli ricchi devi andare a fare gli incontri casuali pensa quando saremo nel metaverso io ti farò gli incontri casuali andrò a battere i mob per te per poter campare ma no sai una cosa che farà che spingerà a cannone è creazione di contenuti arte 3D cioè immagina quello cioè adesso se tu vuoi metterti un mobile in casa devi andare da chi fa mobili domani un ragazzino in gamma che ti sa fare una sedia particolare la vende a 2 dollari e 99 e se la possono comprare tanti ma diventa un famoso designer quindi ragazzi studiate modeling 3D 3D studio max cose del genere però nel metaverso avrà molto valore secondo me ascolta tra un po' devo scappare infatti ti voglio ti voglio congiudare skip però skip però la domanda sugli NFT e la blockchain ma ne parleremo spero faremo altri incontri lo spero anch'io dimmi solo una risposta al volo tu avrai visto quel video The Line Goes Up quello che avevo anche visto come no io l'ho visto tutto da te ho avuto 5 ore e mezzo di 2 live che caro sei stato molto molto caro ti voglio ti voglio soltanto chiedere proprio risposta così al volo prima di salutarti e ringraziarti ti voglio soltanto chiedere è troppo catastrofico? secondo me è tra le critiche più sensate che ci stanno mette anche moltissimi mette anche molti spunti per approfondimenti c'è un minimo di CRP cioè come dire la risposta al volo è complicata non ha mostrato nessuno non ha lasciato nessuno spazio ha qualche possibilità che qualche piccolo aspetto possa funzionare però è un pugno nello stomaco secondo me è molto ben fatto e ha spostato molto in mela la mia opinione la mia opinione nasce è tutta una merda poi un po' mi entusiasmo in realtà sto anche scrivendo del codice online nel mondo smart contract ethereum e così via sto anche cofondando una start up in questo ambito tra l'altro si poi ne parleremo un'altra volta in realtà sono co-founder di una start up nel mondo nel mondo cripto molto part time sto facendo hiring sto assumendo le sue persone e però per un po' ho avuto un minimo di entusiasmo sotto alcuni aspetti che secondo me gli NFT potrebbero risolvere non questa merda di collezioni arte sta puttanata qui però vedo un domani delle potenzialità sul fatto che potremmo avere degli oggetti digitali unici lo vedo non so vedo qualcosa ho anche degli use case in testa però ad oggi il 99% quello che c'è in giro è merda è scammabile e così via questo video più altri due o tre articoli bellissimo l'articolo di Moxi il fondatore di Signal che si intitola My first impression on Web3 lui mostra altri aspetti un po' più fattuali su come oggettivamente questa roba qui potrebbe non avere futuro aspetti molto più fattuali e molto anche più filosofici mi piace molto di più è un post lo leggi rapidamente però quel video lì mostra altri 20 argomenti ben fatti ben mostrati e la mia convinzione sta tornando è molto vicina al mi sa che non c'è poco da salvare di questo mondo ho capito mi interessa il tuo parere perché io vengo da lì per me il bitcoin è una merda le currency hanno fallito non esistono currency non c'è nessuno che si scambia questa roba qua tutti scambiano questi token con soldi veri su un exchange centralizzata non c'è nessuno che da qualche parte usa questa monnezza per come soldi quindi io ero molto negativo ho sollevato un po' come dire ho spostato baesianamente da 99% merda a 75% merda ora sta tornando verso 90% merda quindi questo questo braccio di ferro potrebbe andare a zero e via quindi sì reputo troppi aspetti che non vanno proprio bene ho capito ho capito allora ti ringrazio molto Giorgio è stato mi interessava questo tuo parere perché è chiaramente un parere informato e consapevole andrebbe molto più esplorato e ancora informazione però più o meno sono allineato con avremo occasione molto volentieri se ti va perché è un piacere è un piacere ti ringrazio davvero per essere stato ospite come la volta precedente con Silvestrin chiuderò la live insieme a questa chiacchierata così che sia una cosa che possa essere recuperata su Wesa questa la metto su Wesa Channel quindi con sezioni commenti eccetera che possa essere recuperata in modo abbastanza agevole so che dovrò lavorare di di sincronizzazione quindi lo metterò sul sul computer e lo risincronizzerò sperando che venga qualche cosa di un pochino più recuperabile libri da consigliare altre cose da approfondire teniamoci lì per una volta successiva perché potrebbe essere addirittura il tema semplicemente di una chiacchierata proprio perché richiede la nostra migliore lucidità e sarebbe un pochino chiedere troppo adesso caro Giorgio ti chiamo youtuber sono degli youtuber che vento seguo da più tempo e ho visto tantissimo delle due contenuti e per me è un onore stare qua quasi il raggiungimento di una carriera altro che google lo è per me è un onore è un onore adesso il dolore il dolore è essere stato una botta e via se mi hai trombato scappi io pretendo guarda che mi piacerebbe tanto se rifarlo te lo dico sinceramente io che non amo anche ad altro livello anche nel tipo fare una watch party è bellissimo i watch party è una roba di una cazzata del genere mi piacerebbe molto tutto ciò che è tecnico lo fai tu volentieri come sai io non amo questo genere di contenuti ma così mi piace così mi piacerebbe molto farlo quindi assolutamente a bordo molto volentieri grazie mille a tutti quelli che hanno seguito scusate il fuori sync evidentemente la gestione tecnica non l'ha fatta il nostro Mr. Rip ragazzuoli andate in pace l'ha fatta Ale Hertz che sta qua in chat lo vedo che è altro membro del CDA è l'esperto è il tecnologico del gruppo è l'esperto di streaming quindi chiedi ad Ale se vuoi ti aiuta ti adora tra l'altro sarà il caso sarà il caso Ale dici qualcosa se ci sei ti ho visto eccolo là Hertz TV lo conosco lo conosci bene bene è lui che mi diceva guarda questa sta parlando di te in questo momento è lui là ottimo ottimo sono contento sono contento mi è piaciuta grazie Giorgio grazie ragazzi è stato un piacere con me ci vediamo in realtà domattina alle 10 e domani sera sarò da Rick alle 18 con il suo Daily Cogito grazie mille Giorgio Mr. Rip seguitelo ma già lo fate alla prossima volta alla prossima volta ciao ciao a tutti